Io così intanto faccio una panoramica, anche se la presentazione della nostra organizzazione l'abbiamo fatta la scorsa volta, però in breve ti dico che TAMAT è un'organizzazione non governativa, nata nel 1995, fondata da due agronomi, diciamo che il settore nella quale il know-how di TAMAT è quello dell'agroecologia, nello specifico gestiamo progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa, facciamo formazione su metodi di agroecologia più avanzata, cercando di ridurre al meno possibile l'uso dei pesticidi, cercando di promuovere un'agricoltura biologica, fornendo alle popolazioni locali quello diciamo di cui hanno bisogno. E in più abbiamo una parte dove noi lavoriamo in Italia sulla migrazione, l'economia circolare, gruppi d'acquisto solidali. Perché i gruppi d'acquisto solidali? Nel 2016 TAMAT partecipa a un progetto Erasmus e da quel progetto Erasmus nasce l'idea, insieme all'associazione Fiorivano le Viole di Perugia, del centro storico, nasce l'idea di appunto aprire un gruppo d'acquisto solidale, cercare appunto di acquistare prodotti della terra vicina e dare diciamo così spazio anche ai produttori locali. Molti produttori locali sono cresciuti grazie al gruppo d'acquisto solidale nato diciamo da TAMAT, con un'associazione satellita che si chiama Fuori di Zucca, e questo ha dato la possibilità a molti produttori anche di legalizzarsi e di strutturarsi. Ora so che abbiamo tutti quanti un po' i minuti contati. Siccome a contattarti è stata Sara, lascio la parola a Sara per la tua presentazione. Allora, grazie mille a tutti. Oggi volevamo parlare un po' più nello specifico sulla certificazione biologica in confronto con la certificazione partecipata e viceversa. E per questo abbiamo il piacere oggi di contattare con Antonio Loffieo, che è membro dell'IAB della Miglia Romagna, oltre a essere il responsabile tecnico dell'azienda Arcoiris, che si occupa sui sementi biologici, e ci parlerà appunto in generale su questa certificazione biologica e più nello specifico sull'importanza dei cementi biologici nella scelta dei produttori per parte dei gas. Quindi lascio la parola a Antonio Loffieo, grazie mille per voler intervenire oggi. Antonio, dimmi tu se hai bisogno di condividere, hai già la possibilità? No, 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 io vado a braccio, va bene? Perfetto, ci piace. Non mi hanno detto che dovevo preparare qualcosa? No, vai, siamo tutti liberi. Ognuno fa come si sente. Intanto magari mi presento. Allora, io sono Antonio Loffieo, sono un agronomo, che lavora nel biologico, che direi da quasi 30 anni, oltre 30 anni. Ho anche lavorato all'estero con il GVC, che è una ONG, in Brasile e Argentina sei anni all'estero, sempre su progetti in Argentina, soprattutto progetti di sostenibilità locale, con i produttori che abbiamo fatto partire, delle filiere locali, di sementi locali, eccetera. Attualmente sono presidente di AIAB Emilia Romagna e sono consigliere anche nel mio distretto biologico, il Valle del Panaro, che è nella provincia di Modena. Quindi, per affrontare il tema della certificazione, noi diamo... Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa molto importante. Cos'è la certificazione biologica? La certificazione biologica è una certificazione di processo, quindi non è una certificazione di qualità, il che vuol dire che noi certifichiamo un processo. In questo processo io dico che ci sono degli organismi di controllo che certificano che io utilizzo determinate tecniche o che non utilizzo determinati prodotti. Quindi mi certificano che io ho quel prodotto che ho fatto che è stato realizzato con i criteri che sono proprio della certificazione biologica. Lo tengo a precisare perché quando dico certificazione di processo e non di qualità, intendo dire che la qualità di un prodotto non deriva necessariamente dall'essere biologico. Non voglio parlare di contraddizione, però per far capire che se è un prodotto di qualità pessimo può essere sia biologico che convenzionale. Quindi la qualità la si valuta su altri termini che poi andremo a vedere quali sono. Pertanto abbiamo una certificazione di processo che mi dice che io ho fatto a regola d'arte la produzione biologica. Chiaramente a di là della parità di qualità bisogna sempre preferire i prodotti biologici perché ovviamente il biologico rispetta di più l'ambiente, molto di più l'ambiente, la biodiversità e tutta una serie di azioni che devono essere fatte nelle aziende agricole rispetto al convenzionale. Ora, cosa possiamo dire? In Italia la certificazione biologica viene effettuata da organismi di controllo privati. Questi organismi di controllo privati sono 19 in Italia. Sono 19. Quindi c'è un rapporto diretto fra il controllato, cioè quindi l'azienda agricola, il trasformatore, il grossista, biologico, eccetera, eccetera, e il controllore. A loro volta poi questi organismi di controllo vengono controllati da Accredia, che è un organismo statale che controlla il lavoro fatto dagli organismi di controllo. Ovviamente è chiaro che qui c'è un rapporto diretto tra controllore e controllato e che a qualcuno fa sorgere il dubbio, ma questo tipo di certificazione potrebbe dare abito a qualche truffa, perché se io pago il mio ente di certificazione che mi controlla, in un qualche modo potrei ricattarlo. Questa è una discussione che si protrae da quando sono nati gli organismi di controllo, però tutto sommato direi che se andiamo a controllare le cosiddette truffe nel biologico, sono veramente limitate, anche se quando scoppia un caso sono grossi, però sono veramente limitati, come anche veramente limitato anche trovare delle sostanze chimiche nei prodotti biologici sono veramente limitati. Quindi vuol dire che in sé c'è una tenuta forte del sistema di certificazione. Questo però, questa discussione che viene portata avanti, perché ha una sua validità, quella di dire, ma c'è un rapporto diretto fra chi è controllato e il controllore, che non dovrebbe essere così, non ci dovrebbe essere... si sta facendo delle discussioni, si sta arrivando anche a una nuova definizione di organismi di controllo, quindi una nuova definizione di come si controlla il biologico. Una delle ipotesi, per dire, è quella di... una delle ipotesi in campo, che però, ripeto, siamo a livello di discussione, che è molto importante, è quella di dire, bene, ci sono 19 entri di certificazione. La legge dice che se io, se un entri di certificazione mi espede dal circuito del biologico, io non posso andare, non posso essere certificato con un altro entri di biologico, altrimenti uno salta come un anguro da un organismo di controllo ad un altro, facendo, non facendo il ricorso di biologico. Quindi se uno viene espulso da un organismo di controllo, punto, viene espulso e gli altri non lo possono controllare, non lo possono certificare. Premesso questo, l'idea che sta venendo avanti una discussione, ripeto, è quella di dire, bene, per evitare che ci siano queste discussioni, si penserebbe di fare un tariffare uguale per tutti gli organismi di controllo. Ovviamente, 19 organismi di controllo vuol dire 19 tariffe diverse, 19 controlli, metodiche di controllo diverse, eccetera, eccetera. Quindi, l'idea è questa, per far sì che ci sia un'oggettività maggiore nel controllo del biologico, dire, bene, se noi riuscissimo a fare un tariffare uguale per tutte le 19, per tutti gli 19 organismi di controllo, quindi, non sarà facile, l'idea è quella di dire, ogni X anni, eh, l'azienda cambia organismo di controllo. Cioè, quindi, se per X anni viene controllato dall'organismo A, poi viene controllato dall'organismo B, poi dall'organismo C. questa è un'idea che permetterebbe sostanzialmente di avere un'oggettività maggiore nel rapporto tra controllore e controllato, perché, siccome io a questo punto le tariffe sono uguali per tutte, devo comunque cambiare organismo di controllo, se sto operando, non posso più creare quei legami stretti con il mio organismo di controllo che lo tengo per tutta la vita perché tanto devo cambiare e se non ho fatto le cose fatte bene con quell'organismo di controllo, il prossimo potrebbe rilevare delle concruenze nel processo di biodiversità e quindi rendere molto più facile il controllo e molto più sicuro, perché, in ultima analisi, queste discussioni, sapete perché si fanno? Per dare più garanzia a chi compra i prodotti biologici e per dare più garanzia ai produttori biologici seri, quelli che veramente fanno sediamenti biologico, perché poi all'interno del biologico, io l'ho visto nascere praticamente il biologico perché teniamo presente che le prime, i primi regolamenti del biologico sono nati alla fine degli anni 70 a Vignola in provincia di Modena quando l'AGIAB che all'inizio era anche un ente di certificazione e poi adesso noi siamo solo non siamo più un ente di certificazione ma un'associazione culturale. Quando abbiamo dato le, quando abbiamo dato le, a Vignola c'era partito con i primi regolamenti che poi questi regolamenti sono stati inseriti prima nelle leggi nazionali poi nelle leggi europee questo ha fatto sì che quindi che i primi biologici credevano fermamente nella missione in cui si erano incamminati e da parte il fatto che eravamo considerati un po' i pazzarelli un po' gli hippie i borderline e poi chi ne metta perché i più ottimisti ci dicevano non saremo durati più di 5-6 anni nel nostro viaggio del biologico però di fatto adesso ormai biologico direi che è una è un mercato stabile ed è l'unico mercato in crescita anche se abbiamo avuto nel nord Europa delle stasi dovuto soprattutto alla crisi energetica e al fatto che ci siano meno soldi nelle famiglie comunque per dire a questo perché tutto questo perché poi quindi i primi biologici erano partiti con l'idea di fare le cose in regola d'arte quindi quali erano i concetti i concetti erano il locale di recuperare la biodiversità recuperare la fertilità dei suoli e tutto e quindi poi il rapporto un rapporto con con chi comprava ecco quindi c'era un'etica molto forte e nonostante che non ci fosse un mercato questi pionieri sono andati avanti hanno creato un mercato hanno creato fiducia nei consumatori tutto è che poi il biologico è il biologico naturalmente poi dopo sono venute avanti le normative l'ultima normativa è il regolamento 848 2018 che ha riformato tutto il biologico quindi dalle sementi alla importazione esportazione formazione come deve essere regolato tutto il biologico quindi quando il biologico è cresciuto quando il biologico è cresciuto molto forte si sono inseriti in questo business anche produttori molto convenzionali che hanno fatto una scelta verso il biologico non tanto perché fossero spinti da una forte ideologia come era stata all'inizio quindi di veramente lavorare a favore dell'ambiente ma perché i prezzi sul mercato che spuntavano erano superiori a quelli del convenzionale pertanto ultimamente si sono immesse anche una massa enorme di produttori che sono entrati nel sistema del biologico mantenendo in un certo qual modo la mentalità ancora del convenzionale però lo dico perché quindi perché dopo quando parleremo dei gas è molto importante questa distinzione secondo me da tenere tutto sommato è un bene perché poi noi quando siamo nati come biologici la nostra idea era quella che diventasse tutto biologico in fine della fiera e poi il concetto era quello di salvaguardare l'ambiente migliorare la fertilità di terreno biodiversità eccetera eccetera e era chiaro che questo sarebbe successo che nel sistema se avesse avuto successo sarebbero entrati anche figure che proprio lo facevano solo e puramente per i bensi però meglio così che loro continuano a fare i convenzionali pertanto quali sono i presupposti tornando alla certificazione i presupposti tornando alla certificazione sono molto semplici non si utilizzano non si utilizza la chimica all'interno dei processi della posizione biologica e questo è fondamentale allora quindi l'ispettore che va in campo deve controllare deve controllare che questi processi vengano rispettati ma all'interno del biologico la cosa importante al di là della certificazione vorrei che ci sono i controllori che certificano la cosa molto importante è che è molto importante la contrapposizione tra la produzione cosiddetta convenzionale e la produzione biologica perché sono dei presupposti completamente diversi se noi partiamo dopo la seconda guerra mondiale perché bisogna capire anche i processi perché si sono arrivate determinate scelte anche le biologiche perché si sono poi create dei regolamenti e delle leggi per certificare il biologico perché è il senso quando l'Europa esce dalla seconda guerra mondiale con oltre 50 milioni di morti le città distrutte eccetera eccetera causa il fascismo e il nazismo l'Europa moriva di fame letteralmente cioè non c'era da mangiare per cui la cosa più importante all'epoca era dar da mangiare a una popolazione estremata dalla guerra e dalla fame per cui nasce la rivoluzione verde la rivoluzione verde non fa altro che quindi introduce tutta una serie di miglioramenti tecnologici sia sulle sementi sia sui fertilizzanti tra l'altro i fertilizzanti nascono tra l'altro dalle bombe inesplose nella seconda guerra mondiale li hanno li hanno riutilizzati per fare i fertilizzanti buona parte per fare i fertilizzanti nel nel convenzionale tutto questo porta che effettivamente tutti questi miglioramenti tecnologici avviati dalla rivoluzione verde hanno un successo enorme perché riescono a sfamare la popolazione europea anzi non solo sfamano la popolazione europea ma negli anni 70 si arriva sul plus di produzione tanto che questo sul plus di produzione viene comprato da da Gea che è un ente statale che comprava la la sovrapproduzione per poi sotterrarla quindi una cosa eticamente sbagliatissima con le persone che morirono di fame però cosa ha comportato successo la gente non è morta di fame è successo che sono venute avanti tutta una serie di problematiche che sono monocultura esasperante riduzione della biodiversità riduzione della fertilità dei suoli salinità dell'estrificazione dei terreni perché è aumentata la solidità quindi diciamo da punto di vista ambientale abbiamo pagato a caro prezzo questa rivoluzione verde ed è lì che nasce appunto alla fine degli anni 70 80 il concetto di 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 biologico di cui vengono date le prime norme che sono esattamente in contrapposizione quella della di quello che era stata la rivoluzione verde pur riconoscendo la rivoluzione verde che all'inizio ha dato questi risultati ma gli effetti collaterali come possiamo vedere anche dei cambiamenti climatici vedete presente che l'agricoltura soprattutto con gli aggraviamenti industriali è in buona parte responsabile dei cambiamenti climatici per cui vengono date tutti questi tutti questi si danno questi regolamenti molto restrittivi effettivamente molto restrittivi perché si deve dare un segno tangibile di cambiamento di cambiamento di paradigma rispetto a quello che era stata la rivoluzione e dico lo voglio sottolineare perché il perché nascono queste perché nasce l'agricoltura biologica contestatissima a livello di università contestatissima a livello di tutti dei ministeri contestatissima da tutte le parti però è nata avanti tant'è che oggi l'agricoltura biologica viene considerato come un faro perché in Europa l'Europa ha valato il Green Deal e anche il Farm to Fork cioè l'Europa non so se qualcuno ve l'ha già raccontata questa questione comunque il Green Deal e il Farm to Fork dice che delle cose fondamentali importantissime che andare a 2030 dobbiamo avere di 25% della produzione biologica a livello europeo l'Italia è posizionata abbastanza bene perché oltre il 15-16% a livello nazionale altri paesi sono un pochino più indietro però per far capire che un quarto del tutto il territorio europeo deve essere prodotto biologico quindi è importante ed è per questo che è venuto a fare anche il nuovo regolamento il regolamento 848 2018 che regolamenta la produzione biologica l'altra cosa che è molto importante che dice l'Europa è che sempre dentro quella data dobbiamo ridurre oltre del 50% l'uso dei pesticidi e questo è un'altra cosa e altra cosa che ha introdotto sempre questo Green Deal e Farm to Fork è la rotazione nella agricoltura convenzionale la rotazione non è obbligatoria anche se dal punto di vista agronomico sarebbe da fare nessuno obbliga il produttore a fare la rotazione per cui voi vedete soprattutto nella pionura padana grano grano mais mais grano mais mais grano mais medica vedete sempre questi grandi campi monoculturali dove è stata abbattuta la biodiversità in maniera verticale e adesso l'Europa dice che bisogna se uno vuole accedere ai contributi di cominciare a pensare alle rotazioni l'altra cosa che ha detto molto importante l'Europa sempre questo progetto del Green Deal è la salvaguarda degli impollinatori cioè delle api perché noi come sapete stiamo assistendo alla distruzione delle api ecco quindi questo per dirvi che anche all'interno del biologico dove sono a differenza del a differenza del convenzionale dove sono obbligatorie fare delle siepi oppure oppure tutta una serie di oppure anche queste lavorazioni particolari è anche per la salvaguardia degli insetti utili ecco questo per dirvi è tutte queste cose che vengono poi controllate dai controllori nella nella certificazione biologica ecco se avete delle domande nel frattempo non lo so se qualcuno ha delle domande va bene non lo so qualcuno ha qualche domanda io intervengo un secondo Michela perché c'è stato fatto un riferimento nel primo modulo del corso a questo con una serie di note dico polemiche non perché il tono fosse polemico ma anche tra le informazioni che ho io mi risulta che poi queste siano delle belle parole poi nella pratica finanziamenti politiche eccetera vanno in direzione opposta no non vanno in direzione opposta diciamo così che la commissione europea ha dato parli del Green Deal o qual dico in generale cioè mi riferisco alle PAC non so alle se noi se noi andiamo a vedere le PAC c'è la grande discussione che la PAC ancora la maggior parte della PAC che sarebbero gli aiuti comunitari agli agricoltori tenendo il presente che tutta l'Europa vive di contributi e l'agricoltura vive molto di contributi questo è un problema serio continuano ad essere stati allergiti in maniera troppo forte alle grosse aziende e questo è un dato di fatto che però c'è stato un cambiamento un cambiamento nel senso che adesso per prima si otteneva il 100% della PAC in base alla cultura che faceva adesso che ne danno solo il 75% e tra il 25% lo devi ottenere facendo degli ecoschemi in cui questi ecoschemi sono altrimenti non ti danno tutti i soldi questi ecoschemi sono ecoschemi legati molto all'ambiente ad esempio c'è l'ecoschema per salvaguardare gli impollinatori c'è l'ecoschema per mantenere in erbito il terreno quindi che è una pratica tipica del biologico hai capito quindi si è mosso qualcosa si è mosso qualcosa poi ovviamente c'è stata una forte contestazione purtroppo le destre europee stanno contestando in maniera forte queste PAC questi cambiamenti perché tanto sono negazionisti dell'ambiente e questo sarà un problema perché dopo con la storia della guerra dell'Ucraina sono riusciti un po' a bloccare la questione però in effetti disegnerebbe di prendere mano la questione e andare avanti perché se vogliamo evitare se vogliamo che i cambiamenti climatici siano meno drammatici possibili non è che noi possiamo evitare i cambiamenti climatici però rendere meno dobbiamo far sì che si vada avanti verso questa direzione purtroppo la guerra dell'Ucraina è stata presa come esempio per dire no rallentiamo tutto questo sistema ed è stato rallentato tutto questo sistema perché abbiamo bisogno dell'energia abbiamo bisogno di questo di quell'altro però ripeto il cammino è stato intrapreso questa è la cosa più importante però per esempio il piccolo magari no magari ho informazioni sbagliate il piccolo che comunque non può prendere questi finanziamenti il piccolo riprende i finanziamenti riprende in base al terreno che ha esatto tutti quelli che hanno i titoli prendono i finanziamenti io ho parenti che hanno della terra che non riescono ad avere i finanziamenti per certificati biologici per esempio ci sono poi devo approfondire no no allora ti hai i titoli sono troppo piccoli i titoli riprendono anche un piccolino non è quello se hai i titoli sulla terra ok piccolo o grande e piuttosto e riprende riprende poco perché sono piccolini poi ci sono anche i contributi per quelli che fanno il biologico perché poi ci sono le regioni tramite i PSR che danno che danno che sono i piani di sviluppo regionali che sono sempre poi i contributi che arrivano dall'Europa che vengono dati per i biologici poi lì il problema è che in Italia sono tante piccole repubbliche perché ogni regione purtroppo decide come destinare i soldi ai biologici ci sono delle regioni come l'Emilia Romagna che destinano moltissimi soldi ai biologici ci sono altre regioni che destinano meno e ognuna decide in base alle proprie scelte che fa la regione come però il biologico ha i contributi attenzione ci sono i contributi per il biologico che non siano sufficienti questo è un altro paio di maniche più che altro nel biologico è molto forza la discussione se proprio lo dobbiamo fare di quanto costa la certificazione infatti era quello la cosa la passiva la certificazione se la andiamo a parametrare rispetto alla PLV è molto più alta per un piccolo produttore rispetto a un grande produttore perché credo che più o meno vada dai 300 ai 500 euro all'anno per un piccolo produttore ma se questo produttore fa 5.000 euro di fatturata all'anno voi capite che incide parecchio la questione e che non è poco sono state delle regioni per l'Emilia Romagna che per 5 anni quando uno entrava nel biologico gli veniva pagato tutta la certificazione del biologico per dire quindi loro hanno fatto anche altre regioni poi altre regioni fanno anche altro per sostenere il biologico ed è questo il costo della certificazione noi stiamo chiedendo sempre in quel discorso che facevo prima che stiamo nella riformulazione degli organismi di controllo di chiedere che non si debba pagare la certificazione del biologico perché cioè vi rendete conto chi non inquina paga chi non inquina paga per essere certificato che non inquino mentre quelli che inquinano assolutamente diciamo è un po' illogica la questione per cui si sta chiedendo quanto meno che venga dettata dalle tasse il costo della certificazione poi i piccoli contadini non so come potrebbero fare se deve passare però le aziende di un certo tipo che possono presentare dei bilanci ci chiede la defiscalizzazione del costo della certificazione perché l'idea sarebbe io non inquino non dovrei pagare niente dovrei pagare piuttosto chi inquina ecco è anche vero che però in Italia c'è una piccola tassa sui fitosanitari che serve poi questa piccola tassa che viene applicata una piccola percentuale che viene poi per sostenere il mondo del biologico attraverso tutta una serie di bandi che il ministero mette a disposizione quindi qualcosa viene fatto ecco non so se ho risposto alla tua domanda non tantissimo i piccoli produttori sono quelli che su cui stiamo ragionando l'848 ha proposto la certificazione cosiddetta di gruppo per quei piccoli produttori che hanno non hanno molto fatturato poca terra e di fare la certificazione di gruppo in modo tale da far sì che il costo della certificazione non gravi molto sul loro fatturato purtroppo da come è stato concepito questa certificazione di gruppo da parte dell'Europa che è l'articolo 33435 dell'848 è molto complicata è molto complicata non si può fare solo per ogni singolo prodotto devono essere all'interno di un'organizzazione la quale l'organizzazione si prende la briga di certificare per tutti quelli del gruppo ma sempre utilizzando un ente di certificazione quindi un ente di certificazione che comunque fa un controllo fa un controllo su quell'ente che unisce quei produttori non va in tutti i produttori ma dice l'ente di certificazione dice a quell'ente tu devi fare questi controlli abc e questo ente li va a fare in modo tale che i costi di certificazione dovrebbero essere molto molto ridotti a oggi che io sappia ma non so se qualcuno è partito a oggi io non ho ancora sentito qualcuno che sia partito a fare questa certificazione che è complicato però se si riuscisse sarebbe interessante perché renderebbe meno oneroso il costo di certificazione per per i produttori invece se noi parliamo dei gruppi di acquisto potrebbe essere molto più interessante ecco la certificazione di gruppo è a tutti gli effetti una certificazione ufficiale nel senso che una volta che questi gruppi riescono a partire la certificazione che viene fatta è uguale alla certificazione ufficiale come se ne fosse stato fatto per ogni singola ed è importante perché quindi c'è la fogliolina c'è tutto è una certificazione ufficiale mentre secondo me che sono state fatte anche delle prove anche e ce ne esistono è la certificazione partecipativa però la certificazione partecipativa in Italia è un'altra certificazione che purtroppo non ha un riconoscimento ufficiale ma viene riconosciuta all'interno di quegli ambiti in cui viene fatto ad esempio faccio degli esempi pratici campi aperti che è un'associazione di Bologna ha una certificazione partecipativa tra l'altro fatta in maniera molto seria che garantisce che ai consumatori ai coproduttori come vengono chiamati all'interno che i produttori che vendono quella merce che anche se non sono certificati biologici in maniera ufficiale vengono controllati dagli stessi produttori con tutto un sistema loro di garanzia e chi compra chi va ai loro mercati o chi va nelle loro aziende sa che quindi c'è questo atto fiduciario sa che sta comprando dei prodotti veramente controllati poi che non siano certificati biologici è una scelta del consumatore che fidandosi dice io compro sono sicuro di comprare un altro esempio di certificazione partecipativa è il DES di Parma che fa dei propri mercati e fa una certificazione il distrito d'economia solidale di Parma so che sta facendo poi sicuramente ce ne saranno in giro anche altre purtroppo queste forme non sono considerate ufficiali però sono effettivamente molto interessanti il limite è che queste forme rimangono sicoscritte all'interno dei gruppi che vengono che vengono che le fanno perché questo produttore dovesse andare in un mercato del biologico oppure in un negozio del biologico non può vendere la sua merce come biologico e anche questa è una discussione aperta comunque già il fatto che l'848 abbia normato le certificazioni di gruppo speriamo di lavorare nel tempo e di arrivare a un riconoscimento ufficiale anche della certificazione partecipativa che permetterebbe veramente un salto di qualità soprattutto per i piccoli produttori una domanda avendo in considerazione questa voglia di cambiamento sul sistema di controllo per la certificazione biologica che avevate detto che forse si debate sulla possibilità è una discussione che è iniziata attenzione si sta ragionando si sta ragionando e poi avendo in considerazione che esiste questa certificazione biologica di gruppo diciamo se si realizza questo cambiamento non sarebbe opportuno mettere tra gli enti che certificano il processo biologico anche a qualche rappresentante dei consumatori così da fare una visita che stai dicendo è la certificazione partecipativa si la certificazione di gruppo tra la biologica e la partecipativa la certificazione di gruppo segue la logica della certificazione ufficiale solo che dice che invece di andare a casa di ogni produttore il tecnico di un organismo di controllo va a da questo e da questa cooperativa mettiamola così una cooperativa consorzio che raggruppa x produttori piccoli ma devono essere piccoli cioè avere poca terra e poco fatturato il quale dice io vengo dal tuo cooperativo vado a vedere i libri che tu vengo a controllare cosa hai fatto tu con i tuoi produttori per essere sicuro che tu abbia fatto e quindi i miei costi si abbassano notevolmente ma ripeto il concetto è sempre così viene solo cambiato nella certificazione partecipativa è diverso la certificazione partecipativa nasce in Brasile nasce con l'Ecovida nasce praticamente a Porta Allegra sostanzialmente la prima certificazione partecipativa è di Ecovida la quale si pone il problema di certificare i produttori i piccoli produttori locali brasiliani e fa la certificazione partecipativa in cui ci sono all'interno del gruppo che va a controllare i produttori ci sono consumatori rappresentanti di consumatori rappresentanti di agricoltori e tecnici che è un po' quello che fa anche credo campi aperti sostanzialmente che abbia impostato una cosa dopo ci sarà parte e poi la rete la rete Ecovida ha avuto un successo enorme tant'è che tutti i Sud America a cui si è sviluppato e questo sistema e noi abbiamo copiato dagli brasiliani questo sistema di certificazione partecipativa perché è stato veramente interessante ed evoluzionario e ha permesso ai piccoli produttori di di affrancarsi dalle multinazionali tenete presente che a differenza che in Europa le multinazionali nel Sud America schiacciano veramente l'agricoltura soprattutto tipico di produttori i quali multinazionali soprattutto nel Sud America decidono quanto costano i mezzi tecnici e le sementi e decidono quanto costa il prodotto praticamente il produttore non ha libertà assoluta su niente se no su quello che produrrà ed è una situazione veramente molto molto drammatica per i piccoli puntori con la rete di Covid si sono riusciti veramente ad affrancare tutti questi sistemi qui e a permettere di crescere c'è una mano alzata eh sì Gianluca adesso paleso io volevo due commenti su due perché rispondere credo che sia un po' difficile ma un'infrastura sui prodotti che arrivano soprattutto dal Nord America e dicono che sono bio e come sappiamo noi hanno delle caratteristiche diverse io sto pensando alla manitoba alla farina manitoba e qualcosa sul miele biologico perché anche lì io ho i dubbi hai toccato due tastini io sono qui per quello ti ringrazio per la domanda allora i sistemi di certificazione sono differenti l'Europa ha un sistema di certificazione gli Stati Uniti ha un sistema di certificazione eccetera eccetera e anche la Svizzera ha un sistema di certificazione differente perché la Svizzera vi ricordo che non fa parte dell'Europa cosa è stato fatto è stato fatto tutta una serie di accordi bilaterali per far sì che ogni sistema riconosca l'altro ok così quando si importano i prodotti o si esportano i prodotti perché noi ricordatevi che noi italiani siamo i maggiori esportatori di prodotti biologici nel mondo soprattutto in Europa ci deve essere un bilateralismo tra le due sistemi di certificazione d'accordo? quindi quando noi quando noi esportiamo gli americani hanno accettato la nostra certificazione però se tu esporti in America devi fare tutta un'altra serie di di certificazioni che richiede gli americani lo stesso anche se esporti in in Svizzera che ti chiedono altri tipi di certificazione e allora e quando noi importiamo vale il discorso però lì vedi il discorso della Manitoba e loro possiamo parlare anche del Camut a questo punto Manitoba il Camut allora il Camut viene tutto prodotto tra il Canada e il nord degli Stati Uniti quindi tutta la pasta di Camut e tutta roba lì e tutta roba che viene oltre a cielo non si produce neanche un chicco di non si produce neanche un chicco di Camut in Italia d'accordo? e lo stesso è la Manitoba la Manitoba viene utilizzata per fare perché è una farina di forza serve per per dare forza alle farine quindi per fare soprattutto nella lavorazione industriale e vengono ci sono questi ci sono questi ci sono questi controlli il problema magari lo affrontiamo dopo è consumare locale secondo me è il problema questo è il punto perché ad esempio per dire il Camut non lo uso perché mi rifiuto di comprare una pasta che venga prodotta nel Canada e nel Nord Europa quando noi abbiamo i Coras e i Turanici che sono identici praticamente al Camut e vengono prodotti in Italia questo dipende poi anche dalla sensibilità di chi consuma i prodotti questo è molto importante sul miele biologico sul miele biologico ci sono dei problemi reali perché a produrre del seme tu fai un apicoltore io ho seguito 4-5 corsi dall'apicoltore e quando mi dicevano che per avere l'apiario biologico serve solo la regina certificata biologica no vabbè loro certificano adesso certificazione nello specifico dell'apicoltore lo so però devono comunque avere certificato dove portano le acne attenzione non è che basta avere la regina no no tu devi avere tu devi portare le acne nelle zone certificate biologiche altrimenti non ti certificano il miele biologico non è che io dico solo le regina no no tu devi devi sottostare ma devono aver comprato una regina biologica sì però devi dare poi a produrre devi portare le acne nelle aziende biologiche non le puoi portare le acne nelle aziende convenzionali altrimenti possono si applicare niente questo non spero però è un problema perché è un problema è un problema perché l'agricoltore biologico è un nomade sostanzialmente perché deve mettersi deve fare degli accogli con gli agricoltori deve stare attento a questo deve stare a quell'altro ed è ed è molto difficile per l'apicoltura biologica il problema adesso non è tanto a partire che stanno producendo poco poveretti con queste piogge l'anno scorso hanno prodotto poco perché c'è la siccità quest'anno sta producendo poco perché le fioriture non arrivano perché ho queste piogge e c'è quindi sono tra l'altro stasera vado anche al cino dell'agricoltore tra l'altro biologico io un attimo devo fare la rompiscatola perché abbiamo i tempi strettissimi e ho Carla la produttrice di Campi Aperti che mi può stare solo dalle 6 alle 6 e mezza Fabrizio mi parlerà all'ora della loro esperienza che è una bella esperienza allora se Fabrizio ce la fa in 10 minuti e poi lasciamo magari tutte le domande alla fine se no dopo l'intervento di lei sì è un po' a rischio di perdere allora continuiamo il dibattito se forse se è utile è molto interessante tu riesci anche a fare niente dopo siamo alle sementi 10 minuti sulle sementi sì 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 certo visto che alle 6 devo smettere ma con 12 minuti no è perché Carla ha i prodotti la prendo sempre in momenti è per quello assolutamente allora io sono anche ho costituito una società di Arcoiris che significa arcobaleno in spagnolo giusto per non chiamarlo arcobaleno come tante e produciamo produciamo delle sementi di varietà antiche di ortaggi abbiamo preparato i cereali antichi antichi che poi a voi non piace neanche questo termine preferisco della tradizione italiana perché con l'antico ormai voi andate in qualsiasi negozio che da supermercato specializzato alla grande distribuzione tutti hanno qualcosa di antico e cos'è questo antico formativo italiano non lo specifica neanche questo cereale antico diciamo che si intende gli unici cereali antichi sono il faro di cocco e il faro monococco fine e i turanici sono gli unici antichi gli altri separiamo di cereali sono tutti cereali che furono fatti durante il fascismo quindi che furono fatti con una logica qual era la logica all'epoca la logica era che bisogna avere un pane proteico c'era poca carne c'era poca da mangiare quindi dovevi avere un pane che nutrisse cosa importante perché mangiare per nutrirsi non per riempirsi la pancia e sono due concetti completamente distanti quindi fecero questi grani che erano poi grani alti anche questi grani alti perché dovevano nutrire per cui questi grani hanno molta proteina molto più di quella moderna tra l'altro ma hanno un glutine altamente digeribile la differenza tra un grano della tradizione italiana quindi stiamo parlando e poi come furono fatti in epoca fascista vi dico solo i nomi ardito virgidio autonomia abbondanza richiamavano l'autarchia del fascismo chiaramente perché l'hanno fatto in quell'epoca e noi continuiamo a chiamarli così questi grani hanno questa capacità che comunque a prescindere la cosa bella di questi grani producono molto meno di quelli moderni per carità però sono grani che se tu li metti soprattutto per un'alimentatura di collina e di montagna alla fine tra un e poi non hanno bisogno di molte concimazioni anzi se li concimi cadono per terra per cui bisogna evitare di concimare ma bisogna fare delle rotazioni hanno questa capacità che comunque in terreni poveri marginali escludiamo la pianura può essere veramente l'alternativa ideale per i produttori anche non biologici perché alla fine abbiamo visto che nelle montagne e nelle montagne e nelle colline le produzioni quasi si equivalono pertanto conviene conviene poi coltivare questi tipi di grani che sono molto più hanno un potere nutraceutico superiore a quelli moderni ma soprattutto non infiammano i villi intestinali cioè i grani della tradizione italiana non vanno bene per i cereci assolutamente perché contengono più però per tutti quelli che sono intolleranti che hanno delle intolleranze e in Italia le intolleranze sono parecchie quelle una percentuale abbastanza alta di persone che hanno intolleranze tratta con tutti quelli che vanno a mangiare una pizza non lievitata che di notte gli cavalcomi rinoceronte e invece poter mangiare qualcosa che si digerisce bene che non ti infiamma l'intestino è importante e questo e questo è una cosa su cui si si lavora si sta si sta espandendo ed è interessante l'altra frontiera invece che vorrei raccontarvi sono le popolazioni di frumento non so se aspettate cosa sono le popolazioni di frumento le popolazioni sono un sono dei una serie di mescolamenti iniziali di grani di varie varietà la introdotto hanno introdotto i concetti di popolazione furono i concetti di popolazione fu già introdotto negli Stati Uniti già negli anni 50 poi furono abbandonati poi il professor Ceccarelli e sua moglie Stefania Grando che hanno lavorato in Siria hanno portato dalla Siria dall'Istituto di Qarda questa popolazione di orzo e di frumento il quale il concetto di questa popolazione di orzo e di frumento che poi sono stati poi in Italia sono stati si sono sviluppate parecchie hanno questo concetto che sono stati fatti degli incroci intraspecifici all'interno di questi grani quindi si sono partite non so la popolazione di frumento furat aveva più di mille varietà differenti in mezzo poi abbiamo delle varietà solo fatte con i grani tradizionali comunque in sostanza questi frumenti sono molto interessanti sia per il consumatore che sia per l'agricoltore perché è la risposta biologica ai cambiamenti climatici come biologici voi sapete che noi siamo contro gli OGM purtroppo questo governo ha sdoganato i nuovi OGM mettendoli dentro al decreto siccità quindi con una mossa veramente ardita perché è in contraposizione con le regole comunitarie che comunque i nuovi OGM ancora vengono considerate OGM a tutti gli effetti quindi è stata una le hanno fatto passare quindi hanno sdoganato gli OGM noi come biologici siamo nettamente contrari nettamente contrari agli OGM è la risposta che mette i climatici perché sia all'interno di una popolazione ho tanti genotipi diversi cioè tanti geni diversi che se sono in un ambiente siccitoso comunque vi produce perché i geni che sono predisposti per la siccità producono se sono in un ambiente molto umido i geni comunque che sono predisposti per produrre in un ambiente umido producono poi queste popolazioni si adattano agli ambienti in cui vengono coltivati per cui una volta che il produttore contadino li semina li continua a riseminare nella propria azienda per tutta una serie di di anni crea un rapporto simbiotico tra questa popolazione e l'ambiente in cui li sta coltivando ed è una risposta molto forte ai cambiamenti climatici abbiamo visto che queste popolazioni addirittura producono molto bene con delle produzioni costanti nel tempo e io qua la chiudo perché credo che abbiamo già arrivati Allora Sara in realtà ho due domande Allora io ci avevo entrambi sui frumenti se questi frumenti che si adattano all'ambiente le popolazioni e quindi ci aiutano a combattere il cambiamento climatico il climatico adattarsi noi a questo Allora non ti aiutano a combattere i cambiamenti climatici perché bisognerebbe fare tutta una serie di azione di emissioni zero nell'atmosfera eccetera eccetera diciamo che si adattano ai cambiamenti climatici e la risposta biologica ai cambiamenti climatici quindi siccome ci sono tanti geni dentro c'è una genetica ampia all'interno di questa popolazione comunque in qualsiasi parte io risemino quelli che si adattano a quel determinato ambiente con quel determinato cambiamento climatico producono e sono adatti per quell'ambiente ma negli anni ovviamente perché ricordiamoci che l'agricoltura è una cosa molto lenta molto lenta sarebbe tipo in 15-20 anni di adattamento 5-6 anni già si adattano poi magari sentite perché so che i campi aperti usano delle popolazioni tra l'altro anche la popolazione di zucchine credo stiamo facendo e poi queste popolazioni di frumenti sono ibride o si possono ripiantare allora quando si parla di ibrido bisogna stare attenti a noi bisogna tenere presente la differenza tra ibrido commerciale e ibrido naturale tutto ciò quando si incrociano naturalmente due varietà sono ibride però sono ibride che avvengono in natura in base alla che avvengono in natura in quei determinati ambienti gli ibridi commerciali sono le aziende sementiere che prendono due linee pure le incrociano fanno un ibrido commerciale che sfruttano che si chiama eterosi e queste due linee da sole producono meno di quella che viene ibridata e questo è un ibrido commerciale però quando il contadino compra l'ibrido tipo il mais e quando risemino un ibrido ritornano ritornano i geni si ricombinano per cui non ha più quel prodotto che aveva quando è ibrido cioè prova a spiegarvi se io compro un mais ibrido e mi produce cento quintali a ettaro per dire ok e io risemino questo ibrido lo risemino io perché lo raccolgo e lo risemino non produrrò più cento quintali a ettaro ma produrrò molto meno per cui questi tipi di ibridi commerciali è un ibrido fatto apposta per legare il contadino all'acquisto del rassimento ogni anno sostanzialmente che questo è il concetto all'interno di una popolazione di grani che si incrociano fra di loro pochino è perché i grani si incrociano pochino fra di loro vengono chiamati autogame proprio perché si incrociano poco avvengono questi effetti però serve per migliorare la popolazione non è un ibrido commerciale non so se è chiaro perché è abbastanza difficile spiegare questo concetto sì 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 quindi si potrebbe questi ibridi naturali si possono risseminare certo assolutamente perché stanno migliorando la produzione perché si stanno adattando a quell'ambiente capito si stanno adattando cioè vengono quegli incroci che sono adatti a quei determinati ambienti l'incroce è avvenuto spontaneamente naturalmente all'interno in un rapporto simbiotico tra la popolazione l'ambiente e l'uomo capito e anche l'altitudine se l'hai fatto in un'altra montagna se l'hai fatto in un'altra vallata se hai poco vento meno vento è questo che aiuta a crearti la tua popolazione stabile e adatta per il tuo territorio diciamo che allora questi frumenti aiutano anche a lungo termine ai agricoltori assolutamente vengono fatti apposta ok la risposta al cambiamento climatico è l'adattamento non fermarlo è impossibile la vera risposta poi al cambiamento era la riflessione perché mi ha colpito il fatto quando tu hai detto non è che contrastiamo il cambiamento climatico in questo modo ma ci adattiamo al cambiamento climatico avere la presunzione appunto noi non abbiamo la presunzione però con l'agricoltura biologica stai bloccando quantomeno il cambiamento climatico nella maniera così violenta come lo stiamo vivendo io stavo leggendo sul giornale oggi che non so quante centinaia di eventi catastrofici sono avvenuti in un anno in Italia cioè vi rendete conto quindi allora Michela voleva chiedere qualcosa prego sì se faccio a tempo era anche il senatore Cappelli io non so la storia ma penso che abbia una storia volevo vedere se allora il senatore Cappelli e anche questo è una vecchia varietà fatta nell'epoca in quell'epoca fascista tra l'altro si chiamava Cappelli anzi la varietà si chiama Cappelli che fu fatta in onore di Cappelli che era un senatore poi volgarmente tutti la chiamano senatore Cappelli e ha vinto il nome volgare rispetto al nome della varietà che sarebbe Cappelli e la Metropolis che io l'ho sentita buonissima hanno detto che è come la Manitoba praticamente e comunque il senatore Cappelli si ricama un'ottima pasta qual è il problema del senatore Cappelli che mentre le popolazioni non hanno le royalties le varietà dell'attività italiana non hanno le royalties il senatore Cappelli a un certo punto la SIS società insieme alla Coldiret hanno deciso di fare una filiera del senatore Cappelli che per alcuni anni vendevano questo seme solo e esclusivamente a determinati produttori che facevano parte della filiera non so con quali concetti se gli esso di produttori comunque avevano fatto tutta la filiera italiana del senatore Cappelli per cui molti produttori erano stati esclusi da questa filiera perché cosa dicevano? Che se tu facevi parte della filiera potevi chiamare la tua pasta senatore Cappelli se invece non facevi parte della tua filiera anche se avevi del grano senatore Cappelli in grano non potevi chiamare la pasta senatore Cappelli l'antitratti ha cassato due bulte fortissime alla SIS da oltre centomila euro l'una credo e ha detto che non potevano comportarsi così con questo seme che tutti i produttori dovevano essere liberi di poter comprare e accedere alla semente di senatore Cappelli poi c'è una legge che si chiama il privilegio dell'agricoltore che dice che qualsiasi produttore che compra una semente parliamo di grano ha il diritto quindi il privilegio dell'agricoltore a riseminarsi il proprio grano e se dimostra che almeno una volta ha comprato questa semente da una ditta sementiera certificata e che la mantiene poi in purezza che sia bravo può mettere un'etichetta che lui sta usando quella quella varietà proprio grazie a questo privilegio dell'agricoltore questo vale solo per quei grani che non hanno le privative cioè non hanno le royalty però quasi nessun grano ha le royalty per tanti produttori sono liberi e adesso anche il senatore Cappelli dopo che l'antitrust è intervenuto c'è maggiore libertà anche per i produttori tenete presente che il senatore Cappelli perché erano arrabbiati con il biologico perché furono i produttori biologici che tennero in vita il senatore Cappelli nelle proprie aziende e quindi l'hanno reso famoso sul mercato e questa è un po' la storia ok allora grazie Antonio tu ti fermi un altro pochino con noi ok perfetto grazie grazie allora adesso lascio la parola a Carla perché so che è molto impegnata quindi non voglio rubarle troppo tempo allora Carla lo stavamo aspettando fa parte di Cambio Aperti nello specifico lei è anche posso salutare ciao caro non avevo potuto mica riconosciuto scusa e vi parla anche Carla anche perché voi siete vicini infatti mi ne ho mai infatti ci conosciamo da molti anni con Antonio che bello allora io ho chiesto a Carla oggi di farci un po' una panoramica sulla garanzia partecipata ma anche a seguito un po' del dibattito che era venuto fuori il giovedì scorso visto che Campio Aperti è anche in genuino clandestino raccontarci un pochino come funziona visto i nostri dubbi dell'altra volta Carla grazie mille per esserti unita a noi e ti lascio la parola ci puoi anche raccontare sui frumenti se vabbè magari chiediamo dopo se riusciamo a stare nei tempi già Fabrizio è un amico mio quindi ecco patente per questo prego Carla ok grazie intanto di avermi invitata allora io ho un'azienda agricola piccola azienda agricola biologica da 30 anni ormai sono entrati in campi aperti nel 2016 e dal 2018 ho iniziato a ad attivarmi nel gruppo che si occupa della garanzia partecipata nel gruppo dico così perché in campi aperti che è un'associazione di produttori biologici ci sono diversi gruppi di lavoro tra questi il gruppo di garanzia partecipata allora campi aperti come associazione nasce ormai una ventina d'anni fa e fin da subito ha assunto questa modalità cioè questo sistema di garanzia partecipata che in realtà non nasce qui da noi ma nasce in america latina sicuramente anche antonio ne sa bene questa insomma conosce anche lui un po' la storia di questa realtà nasce in america latina ancora prima di vent'anni fa campi aperti l'ha assunta per quale motivo per dare una ulteriore garanzia al territorio e ai consumatori ai coproduttori di quello che viene venduto nei mercati contadini perché questo perché la garanzia partecipata si basa su un sistema di autocontrollo reciproco condiviso e collaborativo sulla conoscenza e sulla fiducia la prerogativa è che nei mercati contadini di campi aperti e per la garanzia partecipata si può vendere solo ed esclusivamente il proprio prodotto io non posso fare compravendita se voglio fare compravendita come agricoltore partecipo ad altri mercati ma nel sistema di garanzia partecipata questo non è autorizzato non è permesso perché perché si vuole salvaguardare il lavoro specifico del produttore agricolo e quindi come dire dare offrire una garanzia in più del prodotto ma anche tutelarlo si chiama garanzia partecipata perché inizialmente in questo sistema sono stati coinvolti i consumatori o coproduttori e che cosa significa che quando le aziende chiedono di entrare nei mercati vengono visitate per dare la possibilità a tutti quanti sia i produttori che già partecipano sia i coproduttori o consumatori di conoscere il produttore e poter instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione diciamo che la fiducia in effetti nasce o ha la possibilità di nascere quando ci si conosce tra sconosciuti è più difficile che questa cosa succeda questo sistema di garanzia partecipata dentro campi aperti viene applicato sia alle aziende agricole certificate biologiche o biodinamiche sia alle aziende agricole non certificate vengono fatte le visite alle visite vengono invitati i produttori delle stesse tipologie di produzioni che offre la nuova azienda vengono invitati anche i coproduttori cioè chi fa spesa nei mercati e se la visita dà risultati positivi l'azienda viene ammessa nei mercati questo è un po' veramente un riassunto brevissimo e sintetico di che cosa è la garanzia partecipata come sistema di ingresso nei mercati garanzia e tutela del prodotto che viene posto in vendita nei mercati quindi c'è comunque un autocontrollo reciproco tra le aziende agricole si possono vendere su ed esclusivamente le proprie produzioni o trasformazioni e la compra vendita è vietata nel modo più assoluto come dicevo prima per tutelare il lavoro dei produttori altri aspetti della garanzia partecipata sono questi e cioè che è capitato può capitare che vengono fatte delle segnalazioni quando un'azienda agricola non rispetta i regolamenti e la segnalazione serve come posso dire a testimoniare appunto la mancanza di rispetto del regolamento e lì parte una procedura che è una procedura di verifica che si basa comunque sempre su una relazione umana prima di tutto che non ha l'intento di castigare o espellere l'azienda agricola che momentaneamente o che per qualche motivo non sta rispettando i regolamenti ma assieme all'azienda agricola si va a chiedere chiarimenti e spiegazioni del perché e del come mai perché questo perché non vuole essere un atteggiamento punitivo assolutamente ma vuole essere una relazione veramente di autoaiuto quando è possibile e quindi si cerca di capire qual è stata la motivazione che ha portato l'azienda agricola in quel momento magari a uscire dal regolamento quindi c'è questo primo approccio una volta capita la motivazione si cerca di aiutare l'azienda a rientrare nei regolamenti se c'è una motivazione di disagio all'interno dell'azienda che ha provocato questo se invece la motivazione è proprio la volontà esplicita di trasgredire no trasgredire le regole ma di entrare in concorrenza con i propri colleghi cioè con gli altri produttori magari facendo compravendita oppure trasformando dei prodotti che non è possibile trasformare insomma in qualche modo l'azienda viene richiamata viene comunque visitata e se proprio non c'è verso che l'azienda spieghi delle motivazioni valide o si capisce che non ha nessun interesse a rispettare i regolamenti allora a quel punto può essere espulsa e viene espulsa sempre la garanzia partecipata si occupa anche di altri aspetti che sono il verificare all'interno di un'azienda che le relazioni con i dipendenti siano sane ed eque e rispettose cioè che i dipendenti non vengano sfruttati ma che vengano rispettati come persona e ritribuiti giustamente ed equamente e anche quando un'azienda è in via di trasformazione per esempio un'azienda prende in affitto dei nuovi terreni acquista dei nuovi terreni vuole aumentare o diversificare le proprie produzioni a quel punto fa una richiesta il gruppo di garanzia partecipata o l'associazione insomma c'è tutta una prassi come dire che ci siamo dati da seguire viene questa azienda fa una richiesta l'azienda viene visitata nuovamente anche se è già inserita dentro campi aperti per verificare che la richiesta corrisponda alla realtà questo perché perché il sistema di garanzia partecipata che è un autocontrollo reciproco costante sia all'interno dei mercati che fuori dai mercati è come dire presta un'attenzione costante su questo aspetto del garantire le produzioni perché potrebbe essere cioè non succede mai non è mai successo però potrebbe essere che un'azienda chieda di aumentare le proprie produzioni poi magari non è vero e acquiste e rivende ecco devo dire che non è mai successo però proprio per evitare che succeda abbiamo delle varie procedure che servono a continuare a poter offrire la garanzia ai consumatori ai coproduttori questo è un po' il succo direi che ho detto un po' tutto quello che riguarda la garanzia partecipata io ho una riflessione una domanda non lo so se proprio prima Antonio mi sto confondo con tutte queste certe persone allora prima Antonio diceva che nei mercati biologici chiaramente chi non ha la certificazione biologica non può vendere i propri prodotti e chi è sotto garanzia partecipata neanche? allora bisogna fare una distinzione ci sono delle città o dei paesi o delle piccole città dove i mercati agricoli degli agricoltori sono gestiti dalle associazioni di categoria in modo particolare io mi riferisco qua in Emilia Romagna per esempio dalla Colliretti i mercati di Campania Amica sono gestiti da Colliretti ed è nello specifico è Colliretti che gestisce il mercato e che applica i suoi regolamenti nei mercati gestiti dai comuni sì i comuni chiedono che le aziende nei mercati biologici di produttori agricoli gestiti dai comuni i comuni chiedono la certificazione biologica Campi Aperti è una realtà un po' a parte nel senso che Campi Aperti è una realtà un po' a parte poi ci sono altri comuni che comunque lasciano la gestione dei mercati contadini biologici a delle associazioni di produttori biologici e che questi gestiscono il mercato sulla base di un proprio regolamento nella fattispecie anche Campi Aperti anche per Campi Aperti è così e Campi Aperti quando è nata appunto ormai più di una ventina anni fa si è data questa organizzazione di poter far partecipare ai mercati contadini anche aziende agricole non certificate purché fossero biologiche o biodinamiche o comunque che praticassero un'agricoltura assolutamente senza l'uso di nessuna sostanza chimica grazie al sistema di garanzia partecipata proprio grazie a questa verifica iniziale precedente all'ingresso dell'azienda agricola nei mercati bisogna tenere presente che Campi Aperti nasce come mercato di produttori agricoli dentro dei centri sociali questo ha permesso che Campi Aperti si desse un regolamento che prevedeva appunto il sistema di garanzia partecipata e che quindi potessero partecipare delle aziende biologiche di fatto ma senza certificazione come anche ha permesso di accettare accogliere far partecipare delle aziende genuino clandestino sempre dentro perché è nata dentro i centri sociali dal momento che il mercato Campi Aperti è stata riconosciuta dall'amministrazione comunale è stato concesso inizialmente era stato concesso un patto adesso mi sfugge il nome insomma un patto tra il comune e l'associazione per cui appunto Campi Aperti gestiva avrebbe gestito i mercati come secondo il proprio regolamento questa cosa è andata avanti ha proseguito adesso non c'è più questo patto ci sono delle concessioni delle autorizzazioni e però Campi Aperti ha mantenuto il suo regolamento questa cosa è stata fondamentale come scelta politica per poter tutelare difendere quelle piccole realtà agricole che non avrebbero la possibilità o non avrebbero avuto o non hanno la possibilità di iniziare con una vera e propria certificazione quindi ci sono delle città per esempio a Modena i mercati biologici sono tra virgolette autorizzati dal comune ma il comune ha scaricato la gestione sulle associazioni dei produttori agricoli però c'è questa clausola che richiede è il comune stesso che chiede la certificazione poi aggiungo anche un altro aspetto che in Emilia-Romagna nel 2014 che è importante riguarda questa a questo pezzettino in Emilia-Romagna nel 2014 la regione ha approvato una legge sull'economia solidale che prevede tutta una serie di aspetti e temi importantissimi tra cui anche la garanzia partecipata nel 2018 direi 18-19 all'interno dell'economia solidale i gruppi più attivi siamo riusciti a far partire il forum che si occupa di questa ha preso in mano questa legge chiedendo alla regione di attuare i regolamenti per applicarla tra le varie cose siamo riusciti ad ottenere delle linee guida per le piccole trasformazioni agricole che consentono di utilizzare la cucina di casa per le piccole trasformazioni senza l'obbligo di realizzare un vero e proprio laboratorio dedicato e tra le varie cose sulle quali stiamo lavorando c'è anche il sistema di garanzia partecipata che vogliamo portare come dire a a far sì che venga inserito accolto come sistema anche dai comuni che adesso pretendono la certificazione delle aziende ma che venga accolto come sistema di garanzia di certificazione biologica non tanto di certificazione perché non è la parola più corretta ma a garanzia di una ripoltura biologica di cui si assume la responsabilità l'associazione che gestisce il mercato e quindi i produttori che ne fanno parte posso dire due questioni su questa cosa come distretto biologico vale del panaro che Carla conosce benissimo abbiamo fatto una due anni fa in pieno covid abbiamo mandato una lettera ufficiale alla regione in cui abbiamo chiesto visto che ha citato la legge 19 del 2014 Carla dove tra l'altro si stabilisce che si abbiamo chiesto alla regione che facesse un chiarimento perché noi chiedevamo che visto che l'hanno armata in una legge regionale noi chiedevamo che questa certificazione partecipativa fosse ufficializzata e che quantomeno in Emilia Romagna anche nei negozi avesse la stessa validità di una certificazione ufficiale non c'è mai risposto alla regione giusto per dirlo però perché l'avamo preso l'avamo preso Carlo sul discorso di Ecovida perché Rio Grande do Sul che dove è nato in Brasile dove è nata la certificazione lo stato Rio Grande do Sul perché il Brasile è un stato federale lo stato Rio Grande do Sul a rete Ecovida ha concesso il fatto che tutto ciò che veniva certificato nella rete Ecovida potrebbe essere venduto come biologico all'interno dello stato che è poi lo stato del Rio Grande do Sul e più grande dell'Italia giusto per dare l'idea quindi poteva vendere visto che avevamo fatto i brasiliani perché non lo facciamo almeno in Emilia Romagna dire se c'è che campi aperti certifica che c'è la certificazione partecipativa mette un bollino per dire che l'abbiamo certificato perché non può essere venduto in un Natura sì non può essere venduto cioè hai capito abbiamo posto la domanda in maniera molto concreta e seria stiamo ancora aspettando la risposta vabbè era l'inciso sì sì hai fatto bene a dirlo Antonio perché così questa cosa la prendo e la porto assolutamente in regione a sé da qualche parte devo ancora avere la lettera se vuoi dopo te la facciamo girare sì sì volentieri allora faccio un inciso noi abbiamo come forum che si sta occupando di tutti questi temi appunto sulla legge 19 è da non so ormai appunto 2018 quindi sono passati già 5 anni in questi 5 anni abbiamo dedicato tantissime ore di lavoro con pochissimi risultati perché perché la regione è una struttura burocratica pachidermica che ragiona vede sente ragiona e si muove cioè risponde alle richieste solo ed esclusivamente su delle vie a senso unico quindi per farli uscire per farli capire che nei vari sensi unici ci sono anche delle traverse delle strade traverse attraverso le quali raggiungere l'obiettivo è molto complicato molto complicato è sempre una questione di scelte politiche di fatto la nostra regione sta facendo delle scelte politiche ambientali completamente all'opposto di quello che sarebbe innecessario ma qui la chiudo perché non è il tema della giornata però insomma noi comunque portiamo avanti questa cosa e dico solo che in Europa questo regolamento adesso non ricordo il numero ma ce l'ho se volete posso anche condividerlo questo regolamento che autorizza le aziende agricole ad utilizzare le cucine di casa per le piccole trasformazioni senza l'obbligo di realizzare un laboratorio ad hoc che richiede comunque appunto un investimento economico perché dobbiamo ricordarci che qua in Italia le trasformazioni alimentari sono paragonate tanto nel picco cioè sia quelle piccole sono paragonate all'industria per cui io che trasformo mettiamo dieci quintali di grano in un anno devo avere lo stesso laboratorio di chi fa dieci quintali in un'ora è chiaro che insomma la richiesta è insostenibile per un piccolo per una piccola azienda soprattutto che voglia iniziare o partire questo è se volete farmi qualche domanda su genuino clandestino o se no specifica se no posso dire due cose di te l'ho già Luca l'altra volta era nata la curiosità o se no ti chiedo appunto di fare una panoramica su genuino clandestino giusto per presentarlo anche perché l'altra volta appunto si era chiesto genuino clandestino non è un'associazione non è strutturata giusto è un marchio ormai allora diciamo che sì c'è il marchio il nome genuino clandestino dice che cos'è nello specifico genuino perché perché tutto quello che viene trasformato e prodotto proviene esclusivamente dai propri campi non si fa io non posso comprare la farina da un produttore ci faccio il pane e poi lo vendo nel mercato no io mi devo produrre la materia prima la trasformo e la vendo nel mercato quindi genuino perché io do la garanzia del fatto che il mio prodotto è mio ed è biologico anche se non è certificato perché parte dal sistema di garanzia partecipata clandestino perché perché questa cosa che ho appena detto su questa su queste linee guida approvate dalla regione dopo quattro anni quattro cinque anni di lavoro solo l'anno scorso adesso nel momento in cui ogni azienda va a chiedere l'autorizzazione di poter utilizzare la propria cucina diventa regolare ma finché non fai questa domanda continui a essere un clandestino se non hai un laboratorio quindi il nome nasce da lì il marchio nato sempre dentro campi aperti e genuino clandestino nasce dentro campi aperti proprio per dare la possibilità a queste piccole aziende di crearsi un reddito perché è chiaro che se io coltivo dei cereali ha voglia di crearmi un reddito vendendo della farina o faccio sette mercati alla settimana e quindi non mi rimane il tempo per lavorare e comunque dovrei vendermi dei quintali perché il margine di guadagno è molto basso il margine di guadagno per un produttore agricolo dove sta nella trasformazione nel vendere un prodotto trasformato lì riesce ad avere un po' più di margine e quindi il genuino clandestino nasce così nasce dentro campi aperti è solo un movimento che poi piano piano nel tempo si è allargato ed è diventato nazionale come movimento perché sulla falsa rega di campi aperti sono nati tanti altri piccoli mercati fatti da piccoli produttori dentro dei centri sociali o in situazioni un po' protette in altre zone d'italia non vuole essere un marchio cioè è un marchio nel senso che c'è un logo diciamo che non è il senso ecco prima rispetto a quello che diceva Antonio ne abbiamo anche parlato più volte dell'idea dell'applicare un marchio sulla garanzia partecipata e lì è nato un putiferio perché in Emilia Romagna ogni provincia ha la sua garanzia partecipata e c'è chi la applica in un modo leggermente diverso per esempio Parma ha avuto ha chiesto e ha avuto dei finanziamenti per sostenere le spese di un gruppo tra cui di un gruppo di professionisti tra cui ci sono anche degli agronomi che si occupano di gestire il sistema di garanzia partecipata per tutti quegli agricoltori che vogliono far parte del distretto di economia solidale di Parma che organizza dei mercati organizza delle situazioni oppure questi fanno comunque partecipano ad altri mercati a Modena siamo su due mercati biologici che ci sono siamo uno solo ad applicare il sistema di garanzia partecipata che è un di più perché il comune di Modena chiede la certificazione delle aziende ma nello stesso tempo a noi non basta a noi come mercato di Modena non basta vogliamo applicare anche questo sistema perché sappiamo essere una garanzia in più e quindi ce la gestiamo noi l'idea del marchio potrebbe essere qualcosa che sminuisce primo perché vorrebbe dire che ogni provincia ha il suo marchio e sarebbe cioè potrebbe diventare veramente complicato riconoscere di tutti e poi perché avere una come si dice un simbolo potrebbe il rischio è alto perché noi umani siamo abituati a falsificare qualsiasi cosa quando ci fa comodo e quando ci torna utile potrebbe come dire appunto il rischio di essere diminuito mentre invece il fatto che non ci sia un marchio e il fatto che c'è la faccia di ogni produttore che fa quel mercato a garanzia del prodotto è un è qualcosa che per cui ogni produttore si assume il proprio pezzetto di responsabilità senza che sia il bollino che viene applicato sul sacchetto o sul prodotto a campi aperti perché viene chiesto di applicare il disegno sull'etichetta dei prodotti perché così chi compra sa che è un prodotto genuino clandestino cioè sa che quell'azienda non è autorizzata sa che quell'azienda è una piccola azienda che produce il proprio reddito tramite quelle piccole trasformazioni e quindi è un modo per sostenere anche una scelta politica diciamo che comunque anche in genuino clandestino c'è un regolamento che vieta alcune cose come per esempio la produzione dei prodotti più a rischio che sono intanto tutti gli alcolici sono proprio vietati nei mercati di campi aperti e e anche il vino quindi Carla scusami scusa no 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 mi sono espressa male i super alcolici ok no no perché no il vino ce n'è in abbondanza no e invece i sottoli i sottoli sono assolutamente vietati perché sono molto delicati come prodotto e quindi viene richiesta un'autorizzazione sanitaria perché l'autorizzazione sanitaria prevede tutta una serie di normative che garantiscono quello non sì diciamo che c'è comunque una tutela un'attenzione alla tutela sia di chi produce ma anche di chi c'è sia di chi produce e di chi consuma è fondamentale una domanda che ci avevamo posto la volta scorsa i gruppi di acquisto che vorrebbero acquistare dei prodotti da un da un agricoltore che fa parte del movimento di Genuino Clandestino come essere un gruppo d'acquisto diciamo formale quindi una situazione come dovrebbe quale sarebbe la costale del pagamento come si dovrebbe fare il caso potrebbe fare fattura l'agricoltore questa questa era una domanda diciamo riflettuta e non sapevamo come rispondere che tra l'altro in furi di zucca ce l'abbiamo oppure dei produttori che aderiscono alla rete Genuino Clandestino però poi loro hanno anche forse Fabrizio Monosello saprà rischiere un po' meglio di me hanno una rete diciamo di autogaranzia che terra fuori mercato sono insieme Fabrizio terra fuori mercato e Genuino Clandestino quindi ecco però lascio Carla rispondere a questa cosa allora questa è una risposta un po' difficile nel senso che non essendo cioè non è detto che Genuino Clandestino cioè che un'azienda che produce no scusate mi cerco di esprimermi il più corretta possibile non è detto che un'azienda che trasforma e vende un prodotto Genuino Clandestino non sia un'azienda regolare registrata alla Camera di Commercio esatto cioè può essere benissimo un'azienda registrata alla Camera di Commercio con partita IVA regolare con i suoi versamenti inson insomma comunque un'azienda agricola a tutti gli effetti che vende un prodotto Genuino Clandestino perché non ha un laboratorio non ha ancora o non ha in questo momento un laboratorio autorizzato per le trasformazioni che vuole vendere sì e lì devo dire che non vi so rispondere nel senso che io credo che la cosa migliore sia che solitamente cioè io a parte che parlo per l'esperienza che ho che è riferita qui all'Emilia Romagna ovviamente la cosa credo possibile sia che siccome i produttori che fanno il mercato sono praticamente sempre organizzati in associazione di produttori non associazione come si chiama l'associazione di categoria tipo la col diretti la CIA quelle associazioni lì no sono proprie associazioni dei produttori che fanno i mercati io credo che la cosa migliore sia che il gruppo d'acquisto si rivolge all'associazione perché dico questo perché quando c'è stato il periodo covid nel quale tutti erano eravamo confinati in casa tutte le associazioni di produttori agricoli ci siamo dati da fare per fare la vendita a casa cioè consegnare i prodotti in quel caso sono stati per esempio riguardo a campi aperti sono stati inseriti anche i prodotti dei genuino clandestino io però non mi sono occupata nello specifico di questa cosa quindi non vi so dire dal punto di vista fiscale come sono stati registrati questi conti non ve lo so dire anche perché io appunto non avendo seguito personalmente la cosa insomma so che c'è stata questa possibilità di inserire anche questi prodotti ma non vi so risponderne precisamente anche perché cioè dal punto di vista fiscale peraltro chi fa vendita di prodotto fresco chi fa vendita diretta di prodotto fresco chi vende frutta e verdura non ha nemmeno l'obbligo di emettere lo scontrino ha l'obbligo solo nel momento in cui è fiscalmente dentro una contabilità ok ma se per esempio ha un'azienda piccola o è in esenzione dal tenere la contabilità perché non supera un certo reddito non ha nemmeno l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale ha l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale chi fa chi vende un prodotto trasformato che però deve essere in regola ovviamente anche con la trasformazione sì questo poi magari c'è l'incontro con Cinzia Cimini che ci darà tutte le direttive faccio una come dire riserisco un secondo perché la domanda era nata in realtà dal fatto cioè come dire si ipotizzavano delle situazioni che al momento non ci sono noi siamo un gruppo d'acquisto ma siamo informali e abbiamo avuto l'offerta da parte di altri gruppi di far parte di una sorta di rete rete che potrebbe diventare anche nazionale di prodotti di genuino clandestino però anche la realtà non ha questo tipo di problema il discorso era nel momento in cui noi andiamo eventualmente a formalizzarci come facciamo a far vedere che le nostre entrate sono diverse dalle uscite cioè sono compatibili con le uscite quindi da qui nasceva tutto ho contattato la famosa persona a cui facevo riferimento che mi ha detto che le risulta che comunque anche altri gas forse anche il gas della mag di mag 6 faccia questa l'inserisca quindi non dovrebbe essere un problema mi ha detto di rivolgermi ad un'altra persona a cui ho chiesto oggi ma nel pomeriggio e diceva non intervengo io perché non vorrei pestare i piedi a nessuno però c'è un sito ci sono delle persone ci sono dei contatti e quindi invitava a contattare loro e diceva se i tempi sono lunghi essendo una rete autogestita al limite mi faccio da tramite insomma chiudo si confermo che la mag 6 di Reggio Emilia ha una rete di insomma un gas informale che vende ai propri soci e e quindi loro sicuramente qualcuno dentro la mag sa darvi risposta anche su questo aspetto che io cioè questi aspetti fiscali proprio sono una lingua che conosco poco sì anch'io totalmente allora grazie Carla grazie tantissimo io se siete d'accordo darei un attimo la parola a Fabrizio così poi magari Carla tu devi andare via ti puoi fermare un altro pochino io mi posso fermare 5 minuti poi ho il forno che mi aspetta perdonatemi ma domani ho mercato sono indietrissimo con le trasformazioni e quindi resto fino alle 7 meno un quarto perché poi io ho le 9 qualcuno vuole chiedere qualcos'altro a Carla la salutiamo così lascio magari avrei una curiosità sono Erika buonasera buonasera Erika prego grazie una curiosità sempre tornando alla garanzia partecipata se in base all'esperienza di Carla riguarda coinvolge solo diciamo piccoli produttori che iniziano a lavorare avendo già diciamo un'ottica bio oppure se è successo magari che qualche azienda magari media medio piccola non so ma convenzionale si sia votata diciamo e si è entrata nel meccanismo della garanzia partecipata per diciamo una riconversione ecco se è successo grazie sì è successo so che allora io non sono in campi aperti da tantissimi anni perché appunto sono entrata nel 2016 c'è chi è nella successione da più tempo di me e so che alcune aziende che fanno parte di campi aperti da più tempo vengono dal mondo del convenzionale ma che si sono cioè che hanno fatto la scelta di convertire l'azienda perché resesi conto del valore del convertire un'azienda al biologico invece che continuare a fare convenzionale per tutta una serie poi chiaro che entrano in gioco motivazioni personali per esempio questa è un'azienda che ha cominciato a vedere morire tutte le persone di famiglia dovuto a delle malattie causate dall'uso dei pesticidi quindi motivazioni importanti è successo ce ne sono anche altre di realtà per esempio aziende medio piccole medie anche perché adesso questo esempio era di un'azienda di più di 30 ettari quindi insomma un'azienda importante altre aziende ereditate dai figli aziende convenzionali cioè gestite in convenzionale dai genitori che nel momento in cui vengono prese in gestione dai figli i figli decidono di convertire al biologico anche lì ovvio ci sono motivazioni personali importanti forti perché c'è questa maggiore sensibilità alle necessità di avere di mangiare di tutelare sano e di tutelare l'ambiente per esempio per quanto riguarda la garanzia partecipata di Modena siamo un gruppetto molto più piccolo perché siamo solo una quindicina di produttori è successo che avesse chiesto di entrare dentro questo sistema un piccolissimo produttore che veniva da una famiglia di una grande azienda convenzionale che però voleva fare biologico ha iniziato senza sapere cosa fosse il biologico per tre anni l'abbiamo seguito e non c'è stato come dire verso di poterlo accogliere perché nonostante tutti i suggerimenti nonostante sia stato affiancato in tutti i modi possibili accompagnato in questa trasformazione lui aveva voluto cioè aveva iniziato questa sua separata dalla famiglia aveva iniziato questa piccola azienda di due ettari veramente piccolissima dove faceva diverse cose però su questi due ettari aveva tipo duemila metri che lui considerava a biologico e tutto il resto trattato col glifosato per cui col glifosato e per cui nonostante appunto l'accompagnamento che gli è stato fatto e l'aiuto che gli è stato dato lui non era riuscito a capire qual era la differenza perché quei duemila metri a biologico che erano fragole nei pochissimi mesi dall'inizio della produzione alla fine della produzione cioè lui riusciva a fare undici trattamenti erano sì tutti i prodotti ammessi nel biologico su quelle povere fragole però erano undici trattamenti in pochissimi mesi quindi non siamo riusciti a fargli capire che il biologico non voleva dire usare la mentalità convenzionale però cioè continuare con la mentalità convenzionale usando i prodotti ammessi in agricoltura biologica bisognava proprio cambiare mentalità perché a distanza di 5 metri da queste povere fragole c'era un campo che lui aveva coltivato a mais e grano diservati e quindi cioè dopo tre anni e dopo diverse visite gli abbiamo detto che se lui non riusciva a capire questa cosa non era possibile accoglierlo questo grazie Carla grazie mille del tuo tempo prego buon lavoro grazie io vi ringrazio e vi saluto perché sì adesso non proprio devo andare in più buon lavoro anche a voi buona grazie bel progetto grazie grazie ciao ciao Antonio ciao Carla ciao allora scusami Fabrizio scusami tanto allora vi presento Fabrizio allora Fabrizio in realtà sta a Pirugia e lui ha una bottega di commercio solidale un'associazione che si chiama Ponte Solidale e in realtà la sua bottega è anche un punto di distribuzione di un gas che tra l'altro è il gas dell'IAB Umbria giusto Fabrizio? sì allora nello specifico oggi io ho chiesto l'intervento di Fabrizio in quanto membro del comitato direttivo di Eco Garantito credo che un po' conosciate già Eco Garantito e che è un ente di rappresentanza dove all'interno ci sono 70 organizzazioni circa giusto se non sbaglio che supportano attraverso varie attività educative di fusione le diciamo le supportano in qualche modo i propri soci vai Fabrizio ti lascio la parola se vuoi condividere puoi già farlo ti chiedo solo una cosa i giornali che abbiamo come termine dell'incontro se c'è ancora qualcosa solo così mi regolo un attimo tanto tu adesso sei l'ultimo ti puoi prendere anche tutto il tempo ok però più o meno fino ad adesso chi ora sei libero puoi mettere poco tanto non voglio neanche abusare della pazienza di chi è collegato quindi io faccio così la mia idea intanto spero che la connessione funzioni bene non so se a massimo poi colgerò il video perché io vi sentivo un po' a scatto ogni tanto mi auguro si senta si sente bene sì sì noi sentiamo benissimo ok invece vi vedo un po' bloccati però se si sente bene così allora tanto l'idea come già con Morena poi quello di lasciare comunque visto avete questa ottima opportunità della piattaforma che poi permetterà a tutti voi insomma che parteciano anche di interagire e di avere dei materiali che possono essere utili quindi poi magari materiali che intanto oggi pensavo di farvi vedere comunque disponibile così come anche ulteriori eventualmente contributi e quindi intanto fa piacere come dire a culmine dell'incontro di oggi gli interventi avuti perché in realtà i punti di contatto erano tantissimi per chi di voi conosce un po' il solidale sa benissimo che tante delle cose che abbiamo sentito a questo pomeriggio sono collimanti no? Si incontrano con il commercio equo tra l'altro Morena diceva anche l'esperienza io a Perugia con Conte Solidale questa cooperativa in cui lavoro lavoriamo con l'Aiob e siamo appunto un punto di distribuzione di un godo nel frattempo facciamo anche parte fin dall'inizio della rete di terra fuori mercato quindi la rete di destino forniamo prodotti ad entrambi quindi molte delle confetture dei materiali di prodotti realizzati anche nel destino sono fatti attraverso anche magari lo zucchero del commercio equo il cacao del commercio equo ma nel contempo abbiamo anche con l'Aiob stessa una grossa collaborazione quindi questo per come effettivamente è sensato c'è una sorta di comunanza dei percorsi e c'è anche una sorta di comunanza di fatica di condivisione con quelle che sono le leggi che le regioni a volte hanno in questi ambiti faccio un esempio molto pratico quello toccheremo forse anche dopo esistono anche delle leggi così come sulle economie solidali anche sul commercio equo solidale e spesso sono leggi che non vengono finanziate cioè messe lì a cappello quasi per far vedere che si è bravi si è belli si è buoni e poi però non vengono messe a disposizione le risorse l'Umbria da questo punto di vista è una legge ha una legge regionale attivata in passato che poi è stata definanziata e quindi anche depotenziata e non ha più permesso a tutte le organizzazioni Umbria di portare avanti tutta l'attività culturale sul territorio e grazie all'autorità delle organizzazioni si è mantenuto questo evento che è Alto Cioccolato che è un evento formale dell'elevenza nazionale l'Emilia di cui alcuni di voi fanno parte e abbiamo sentito anche oggi l'esperienza di Antonio ha invece fortunatamente anche un'esperienza che poi ha portato all'esperienza dei rivestiti che è fatta grazie anche attraverso i fondi della legge regionale in realtà appunto anche da questo punto di vista che il commercio eco va a confliggere a combattere contro l'incapacità a volte anche di sapere intravedere delle potenzialità dal punto di vista educativo che questo argomento e questo tema questo movimento può portare e poi l'altra cosa che mi sentivo anche di così di mettere come è che l'interessante anche di come a tutto punto Antonio parla di difficoltà citando anche il discorso della comunità sudamericana ma tutte le comunità di produttori del sud del mondo dei piccoli produttori di accedere al mercato questa è una delle caratteristiche fondamentali fin dall'inizio del commercio eco solidale ma immaginandosi la fatica di accedere al mercato di produttori del sud come anche le del nord del mondo il commercio eco ormai ha senso anche pensato nella piana di Rosarno piuttosto che nelle zone dell'agroponti delle zone delle campagne foggiane perché comunque in realtà sono queste anche delle zone in cui ormai il sfruttamento del lavoro di attitanza etica di un prodotto è molto evidente e quindi da questo punto di vista penso che siamo di essi anche molto bello che ci sia questa sorta di incrocio e poi anche parlando di termini nel caso del commercio eco da fin dall'inizio dalla nascita del commercio eco si è sempre parlato di coproduttori prima si parlava di coproduttori cioè quanto noi in quanto consumatori quindi questo lo dico anche specialmente per chi di voi in mente di mettere su o di partecipare a un'esperienza di un gas quanto noi come consumatori dobbiamo essere attivi attori di questo cambiamento quando si è sempre detto questo slogan un altro mondo è possibile lo è anche grazie al contributo e alle scelte il mondo comincia con un caffè questo era lo slogan che il commercio eco a inizio negli anni 90 e credo che sia ancora molto molto attuale tutto questo per dire quanto veramente sia molto sensato e sia anche importante questa è una cosa che ho condiviso con Morena in questi mesi è anche bello mi fa anche piacere che si possa toccare l'argomento del commercio eco solidale come uno degli a interagire con un gas chi vuole provare a cambiare un po' anche dal basso l'economia che sia perché da un punto di vista pratico alcuni prodotti coloniali come il caffè e il cioccolato fortunatamente hanno ancora un percorso naturali dal punto di vista ambientale ma semplicemente perché ha un senso che appunto fare delle scelte condivise come quello che può essere un percorso che fa un gas informale o formale ha l'importanza che possa andare a cambiare alcuni anche sui prodotti che in realtà poi su cui a volte forse abbassiamo la soglia magari poi diventiamo attentissimi al chilometro zero ed è importantissimo che ciò rimanga ma come dice della bottega di Bari anni fa facendo un progetto nelle scuole dimentichiamo il centro vero cioè dimentichiamo poi tutto quello che c'è ad esempio a volte rispetto alla questione etica e quindi rispetto ad esempio a uno zucchero a un caffè magari poi a volte rischiamo di essere meno intransigenti e meno attenti e lì chiaramente il chilometro non potrà mai essere zero il percorso è chiaramente molto ma c'è un chilometro zero dal punto di vista etico un chilometro eco su cui le possiamo alzare un pochino la soglia e vedere se riesco a condividervi lo schermo se non faccio danni perché sono un pochino boomer su questa cosa no è arrivato? sì sì perfetto benissimo ottimo allora così provo a vedere se riesco a rivedere però chiaramente se spero a farla scorrere sì esatto perfetto scusate allora visto che queste slide saranno disponibili non sto adesso a dilungarmi sono 33 slide quindi assolutamente non le toccherò una o una nel dettaglio se no diventate matti ma ho voluto come dire mettere a disposizione una sorta di piccola cronistoria anche perché magari molti di voi con il commercio solidale lo hanno frequentato magari acquistano nelle botteghe di commercio equo oppure acquistano i prodotti anche nella grande distribuzione con certificati del commercio equo però magari che a volte ci sfugge che in realtà è un percorso che parte da molto lontano e quindi questo da un lato dice se sempre detti che l'idea sarebbe che il commercio equo prima o poi sparisse perché tutto il commercio diventa equo e questa è una cosa che ci si è sempre detti a livello di movimento in realtà se siamo ancora testimoniamo che da un lato è bene che ci siamo ancora ma dall'altro testimoniamo che ahimè ci sono ancora delle iniquità o comunque delle disparità e delle che assolutamente dimostrano che ancora c'è troppo c'è ancora molto da fare e che anzi tante volte certe modalità in realtà più dei greenwashing o più comunque delle che non invece delle scelte effettivamente di campo e di fontina quindi tutto questo percorso che è nato moltissimi anni fa ha avuto questa svolta se vogliamo negli anni settantane nel sessanto durante la conferenza dell'UNCTAD la conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo ci fu questo slogan è uno slogan che secondo me può essere interessante e importante ricordare perché fu una sorta un po' di chiave di volta spesso viene vista la nascita del commercio specialmente in Europa legata anche un po' questa frase cioè non soltanto aiuti ma un commercio è un commercio fatto fair trade appunto secondo me è interessante ricordare questo slogan per un motivo molto semplice perché oggi le politiche di greenwashing che a volte aziende a volte mettono in campo così come può avvenire per il biologico avviene anche può avvenire anche per il commercio equo forse risolvertono di nuovo questa formula perché si torna a una modalità di aid una modalità di aiuto una modalità per cui io non do continuità voglio dare non do progettualità sullo specifico in quel momento su quel micro progetto su quella piccola cosa però in realtà non riesco ad essere efficace e ad essere in termini non sto arrivare a dirvi tutte le definizioni date del commercio equo ma semplicemente però come dicevo prima penso che sia interessante non dimenticare ed è per questo che anche quando prima Morena citava e poi vi citerò meglio l'eco garantito la differenza grossa la può fare nel caso del commercio il ragionamento sulla filiera non soltanto sul singolo prodotto una filiera anche da diversi attori c'è chi produce il prodotto c'è chi lo importa ma poi c'è anche chi lo acquista lo rivende chiaramente le botteghe ma anche chi lo acquista lo consuma e nel caso del commercio equo e su questo parlando di parlando di sistema di garanzia parlando di percorso di filiera i principi del commercio equo che qui poi trovi dati che sono anche con questo effetto grafico che un po' ricorda anche quello dell'agenda 2030 ci sono i vari punti del commercio equo ma mi piacerebbe ricordarvene due anche perché tra l'altro questi sono anche degli aspetti che spesso sono anche diventare un contatto interessante per i gas noi di fatto collaboriamo con diversi gas anche qui con l'AIEB ma anche con gas formali e informali del territorio umbro e con loro ad esempio abbiamo fatto da anni un progetto che viene fatto in Italia e mi permetterò di sottolinearlo anche di lasciarlo come possibilità se già non lo avete per chi di voi già si occupa di un gas ed è legato al tema del prefinanziamento c'è magari chi di voi con il percorso della comunità zapatista del caffè Tatauelo ad esempio è un classico progetto in cui il gas ad esempio poi su questo sono a disposizione anche per darvi ulteriori informazioni sperimenta quello che è un prodotto tipico del commercio ecosolidale e sperimenta il gas stesso quello che di solito è l'argomento classico dell'organizzazione che importa prodotti di commercio elco cioè il pagare prima il prodotto prefinanziarlo il pagarlo fino al 50% o come speriamo credere nelle realtà del commercio ecosolidale e questa è una cosa che viene proposta ad esempio ai gas ai singoli gas e se qualcuno di voi non avesse questo contatto lo suggerisco la cooperativa Tatauelo attualmente a sedia Torino e si occupano appunto di importare il caffè del Chiapas e poi anche spesso lo trovate nelle botteghe di commercio eco perché comunque un caffè è distribuito anche dalla rete del commercio in modo più tradizionale poi è un classico esempio di commercio eco abbinato ai gas cioè come si può e così può avvenire anche con altri prodotti come si può ragionare insieme come gruppo di acquisto nel immaginarsi una fornitura di un caffè e quindi ad acquistarli a pagarlo precedentemente a pagarlo in anticipo a pagarlo all'atto dell'ordine ed è una cosa che ad esempio noi nel nostro caso l'esempio Umbro che noi abbiamo ha portato questo anno ad esempio a coinvolgere ristoranti agriturismi e singoli cittadini e gruppi di acquisto per acquistare fino a 9.000 euro di caffè in comprafinanziamento 9.000 euro di caffè pagati adesso e pagati quindi alla proprietà da whale quindi di conseguenza ai produttori zapatisti nel Chiapas 9.000 euro di caffè pagati adesso a marzo e che a settembre saranno a disposizione dei consumatori che lo hanno acquistato quindi una scommessa una scelta fatta dal singolo cittadino dal singolo consumatore o addirittura come dicevo prima da dei ristoranti dagli agriturismi da uffici che hanno deciso di scegliere in quel modo di spostare il loro consumo quindi questo mi piaceva sottolinearlo perché è un aspetto classico del commercio eco ma in questo caso è un aspetto che è un punto di contatto che può diventare anche un modo concreto e anche forte il commercio eco si colloca si connota all'interno ad esempio di un gruppo di acquisto e qui sono citati appunto come dicevo prima nella filiera del commercio eco l'importanza che ognuna dei singoli passaggi ha e qui per toccare un po' un argomento che avete che hanno ben approfondito per farla che sono i competenti di me su questo anche perché occupando anche nello specifico di un ambito che su cui il tema la parola certificazione è chiaramente chiede di alzare molto la storia di essere competenti di essere esperti di avere anche informazioni più possibili precise nel caso del commercio eco questa cosa comunque dopo la nascita più informale dove la garanzia fondamentalmente era legata anche alla conoscenza al rapporto di fiducia che è comunque un rapporto che nel momento in cui tu entri in bottega rimane un punto forte un punto fondamentale spesso capita di sentire che ti chiede un consiglio nell'acquistare un prodotto poi si fida perché sa che se tu glielo stai dicendo non è che glielo stai vendendo perché vuoi per fregarlo quindi questo rapporto di fiducia comunque rimane nella quotidianità di quella che è la proposta del prodotto del commercio eco nella società che sono le botteghe del mondo però chiaramente nell'arco degli anni il tema di come immaginarsi una garanzia una certificazione un percorso per cui la conoscenza fosse anche strutturata e avesse contenuti si è posta anche nel mondo del commercio eco qui in questa slide vedete un po' quella che era la filiera classica c'era chi produceva importatore per molti di voi magari non potrebbe essere altro mercato uno dei più conosciuti ma potrebbe anche essere libero del commercio o altri sono diversi gli importatori di commercio eco per i prodotti alimentari come artigianali importava venivano le botteghe del mondo e i consumatori finali con la loro scelta più delle volte piccole realtà associazioni magari nei piccoli paesi nelle grandi città andavano a fare il suo acquisto questa cosa dicevo prima era molto legato alla credibilità al rapporto così anche c'era all'interno delle singole organizzazioni che si rapportavano tra di loro all'informalità con cui il prodotto faceva il suo viale è interessante ascoltare i racconti dei pionieri del commercio eco italiano quando raccontano che da Bolzano andavano in Germania e quasi come contrabbattavano in qua i primi cesti i primi pacchi di caffè di Caragua questa era una modalità chiaramente iniziale la crescita del commercio eco è anche legata a un discorso anche di ampliamento cosa che ha creato poi anche nel mondo di commercio eco anche tante complessioni o comunque tante anche riflessioni cioè il discorso porto con la grande distribuzione ha fatto sì che è nascesso e qui lo vedete è raffigurato un marchio che probabilmente viene noto perché comunque se andate in qualunque mercato alla pop in primis lo trovate nei prodotti di commercio eco solidale dentro la grande distribuzione il marchio di Fairtrade quel marchietto che penso si veda abbastanza bene in queste immagini che si è piccino per cui iniziano a esserci dei licenziatari quindi degli enti che possono utilizzare questo marchio un esempio classico per chi anche si occupa di biologico può essere l'alce nero ad esempio che vedete spesso ha i prodotti di commercio eco e quindi ad esempio potete vedere anche un prodotto di alce nero con il marchietto di Fairtrade perché quel prodotto lì è stato acquistato da un produttore di commercio eco questa cosa questa cosa è stata in anni 90 sono nati diversi marchi ed erano molto legati appunto a certificare quel prodotto quel produttore che entrava nella grande questa cosa che è molto interessante che tra l'altro ha permesso chiaramente anche un ampliamento e anche una visibilità del commercio eco penso che da questo punto di vista l'azione fatta anche da Coop che in più ad esempio a cui si associa anche l'informazione di formazione anche nelle scuole è stato sicuramente un volante indubbiamente con il rischio adesso qui lo tocco molto volante ma credo che sia una cosa che potete comprendere molto bene con prima parlare di washing da questo punto di vista il rischio possiamo pensare che possa essere molto alto ma semplicemente per un motivo perché se io acquisto quel prodotto lo certifico quel prodotto di commercio eco posso anche come azienda continuare a fare il mio percorso assolutamente non è etico per tutto quello che riguarda il mio modo di organizzarmi di fare magari acquisto quel prodotto lì questa cosa è successa in Italia ma piuttosto in altre parti d'Europa o del mondo quando ad esempio è venuto fuori che per dire la cicchita aveva prodotto una banana del commercio eco o anche l'estret che aveva fatto un kit kat del commercio eco o meglio non è che ha fatto un kit kat del commercio eco ha comprato il cacao del commercio eco e l'ha utilizzato per quella linea per quel brand chiaramente con una conoscendo le politiche di l'estret di cicchita non vogliamo essere giudicanti ma penso che sia palesemente una un 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 evidente diverso quando invece possono esserci organizzazioni come avviene e come avvengono anche in alcuni degli marchi o per trade nelle varie organizzazioni nelle varie grandi organizzate e quando invece sono delle piccole aziende che magari appunto come può accadere anche a livello locale noi qui a Perugia abbiamo un'azienda con cui collaboriamo che collaboriamo con la rete di studiare fuori mercato ma anche con l'AIAB che è il Corniolo azienda locale qui del territorio che utilizza i prodotti del commercio equo per poter fare dei trasformati quindi era tale idea che il prodotto di un produttore certificato sia presente dentro dei prodotti trasformati è una cosa interessantissima la sfida però che si è cercato di fare come commercio equo a livello sia mondiale anche poi più a livello nazionale italiano è stata quella di provare a capire se però il discorso della filiera che per noi è interessante molto più importante che quello del singolo prodotto il produttore ha voglia di vendere il prodotto chiaramente ma se noi riusciamo a poter monitorare a fare una narrazione che è più complessa quindi anche più complicata ma anche più interessante c'è l'intero percorso allora questa è quella un po' la sfida che il mondo del commercio equo ha cercato di portare avanti internazionale e qui vedete un marco che invece vedete spesso nei prodotti che trovate nelle botteghe che è il marco di WFTO che è l'organizzazione mondiale abbiamo perso Fabrizio e gli alimentari e produttori e importatori quindi anche Fabrizio ti si sente un po' a scatti adesso prova a chiudere il video tuo prova a chiudere il video vediamo se va meglio assolutamente aspetta che provo un attimo solo a vedere se vi toglierlo se lo ritogliamo no è vero te lo posso togliere io mi sa aspetta grazie sì perché sto bravo grazie mille ti ringrazio no stavo dicendo che il discorso di WFTO che è questo marco che voi vedete qui che è l'associazione mondiale del commercio equo che è composta dai produttori così come dagli importatori da questo punto di vista questa cosa di fare un salto o comunque un elemento di complessità ma anche di molto più interessante perché ha permesso di poter controllo della filiera che ad oggi è il modello che poi dopo adesso vi farò anche vedere molto rapidamente anche nella nostra realtà italiana la realtà di equo garantito morena mentre ho lotto all'inizio io appunto mi occupo di commercio equo da un anno che mi sono occupato fondamentalmente a Torino dove io sono vissuto e dove ho fondato la realtà di commercio equo che ancora adesso è esistente mondo nuovo poi spostandomi in umbrio ho continuato a occuparmi di commercio equo e poi da anni sono entrato nel direttivo appunto dell'associazione di categoria che appunto si chiama equo garantito in questo materiale che vi lascerò poi troverete diversi link tra cui questo ad esempio così come troverete anche diversi link poi vi scorreremo sui rapporti annuali e che vi invito a curiosare a guardare sia perché sono un buon riassunto un buon racconto di quello che si è fatto e si fa abitualmente come di curiosare sul sito di equo garantito ma semplicemente perché avete diversi materiali nell'ottica anche della piattaforma che voi avete su cui sono disponibili dei contributi perché ci sono molti materiali quaderni che ogni anno vengono emessi su tematiche che sono molto attinenti perciò molto attenti un po' delle riflessioni che avete oggi dal tema del biologico ma anche il tema dei temi ambientali basta pensare al discorso anche legato al tessile quindi tutto quello che sono degli approfondimenti che spesso sono utilizzati anche nelle scuole e utilizzati utilizzabili anche per approfondimenti la nascita in Italia di EcoGarantito che inizio si chiamava Agices e l'ha fatto che si è deciso di provare a dare una sorta di norma di forma è stato un percorso molto interessante nato nel 98 che ha avuto diversi anni di lavoro insieme e che ha portato poi alla nascita di fatto di registro delle organizzazioni di essere l'ente l'organizzazione che poteva garantire l'azione del commercio Eco e anche il fatto che il commercio Eco fosse conosciuto e fosse fatto conoscere nei confronti delle istituzioni anche poi nei confronti dei consumatori e da questo punto di vista e qui arrivo anche a quello che troverete anche dettagliato nel rapporto ad oggi ha permesso Eco Guarantito di essere l'associazione che non soltanto rappresenta il commercio consolidale ma rappresenta anche quelle organizzazioni che poi sui territori sono attraverso le cooperative o le associazioni che gestiscono circa 200 botteghe del mondo presenti in Italia ma soprattutto anche quegli importatori quei produttori che poi distribuiscono i prodotti che voi trovate nelle botteghe quindi quanto riguarda il UFTO qui possiamo fargliere in paragone questo esempio è formato dagli importatori di commercio Eco quindi le centrali di commercio Eco che poi facilmente magari riconoscete come un marchio dei prodotti presenti due produttori italiani quando prima vi citavo il discorso del commercio del commercio lo suggerisco lo suggerisco specie a chi come gas pensa ad esempio alla questione della filiera del pomodoro vi suggerisco di prendere contatti di conoscere se già non l'avete fatto se volete farlo con la realtà della pietra di scarto la cooperativa foggiana che ha proposta del prodotto del pomo vero è tutto un progetto che stanno seguendo ed è molto interessante ed è un prodotto certificato come dire commercio Eco perché tutta la filiera viene anche lì nella filiera della produzione del pomodoro e segue quelli che sono i criteri che abbiamo fatto scorrere velocemente nel commercio Eco e come dicevo prima l'importanza anche legata al movimento del commercio Eco è quello di promozione di fare advocacy ma anche di fare poi promozione sul territorio attraverso le attività nelle scuole attraverso interventi come anche questo cioè riuscire a raccontare a narrare e a far conoscere un po' di più tutto quello che è dietro e dentro al movimento e quindi per scorrere rapidamente qui sono una serie di campagne che poi insomma chi avrà voglia di poter curiosare qui c'è appunto i rapporti che vi invito a scaricare o comunque a guardare perché sono pieni di informazioni e anche di approfondimenti nell'ultimo di quest'anno faccio uno dell'organizzazione che rappresento e Morena conosce anche la Stefania la nostra presidente c'è anche un suo contributo sulla Palestina un progetto che noi da tempo portiamo avanti di cooperazione qui sul territorio e a livello nazionale ed è in questo porto del 2020 c'è appunto un racconto di quello che è stato specifico con un testo un sostegno che ormai va e che è molto efficace anche nella promozione dei diritti in questo caso dei palestinesi e vi accendo rapidamente perché oggi si parlava di garanzia si parlava di certificazione come funziona per quanto riguarda il sistema di garanzia dell'organizzazione di commercio eco in Italia questo sistema che il garantito ha proposto e che dal punto di vista anche di quindi di sistema di garanzia è riconosciuto anche da livello internazionale come un sistema che funziona che permette a queste organizzazioni di essere di essere controllate con che modalità ogni anno ognuna delle organizzazioni socie dico garantito compila un modulo di autovalutazione che permette che ha una serie di criteri i criteri del commercio eco vengono raccontati attraverso dei numeri attraverso dei dati che permettono anche di vedere se funziona una bottega che poi ha delle botteghe di commercio eco e valutatori degli auditor quindi poi fanno degli audit ogni tanto ogni ton di anni alle organizzazioni più grosse cioè gli importatori ma anche alle organizzazioni più piccole cioè alle realtà come la nostra che ha delle botteghe di eco e a sua volta il è creato da un ente esterno in questo caso CSQA che monitora che questo sistema di garanzia possa funzionare quindi c'è tutto un sistema di controllo come diceva prima anche Antonio le complessità che le criticità che potrebbero essere anche evidenziate o sottolineate potrebbero essere tantissime da questo punto di vista questo sistema questa filiera che è monitorata controllata e che poi in più a questo ente verifica che tutto questo possa accadere in modo regolare e con le organizzazioni di essere di auto valutarsi di essere valutate e chiaramente se ci fossero dei problemi di poter capire quali possono essere i correttivi e anche per questo quando si diceva prima che cosa può fare anche una società in questo caso com'è eco garantite quello qui di offrire di conseguenza poi ai soci anche il servizio di poter andare a coprire a migliorare a rispondere alle criticità o alle difficoltà che possono incontrare prima vi citavo il discorso delle leggi però in questa cartina lo evidenza in modo anche abbastanza come dire interessante purtroppo non sono tante le regioni in Italia non sono tutte che hanno approvato una legge sul commercio e come vi dicevo prima su queste 12 poi alcune l'hanno approvata ma non l'hanno finanziata quindi in realtà è solo una cosa così a spot e ad oggi ad esempio non esiste neanche una legge nazionale quindi da questo punto di vista questo è ancora più complicato però ecco il fare pressione il fare campagne e cercare di promuovere anche nel piccolo come con attività nelle scuole la sfida che come commercio eco si è cercato di fare continuamente e chiudo anche per non essere troppo lungo nell'ottica di quello che diceva prima Morena e comunque so che voi avete a disposizione in questo corso cioè la possibilità di avere una piattaforma su cui ci sono dei materiali vi suggerisco manderò comunque riferimento di questa piattaforma che è FairShare che è una piattaforma che da anni abbiamo messo a disposizione e cui si può accedere in cui sono disponibili iscrivendosi a livello dei corsi e delle informazioni specialmente per chi poi lavora nelle scuole attività la possibilità di poter avere materiale informativo poter fare attività e promuovere nelle scuole i temi delle economie solidali e cioè eco e quindi penso però vedere se adesso il video è ah sì forse mi devi mi devi riattivare tu forse Morena sì aspetta ok sei utile allora ti ho chiesto di riavviare il video ok fatto fatto e quindi dicevo che questa cosa della piattaforma poi ve la aggiungeremo a disposizione come dire la aggiungeremo nei materiali anche per chi fosse comunque è un'opportunità in più cioè l'idea che contare cioè la narrazione fa la differenza io continuo a pensarlo per qualunque e penso che anche l'incontro di oggi vada anche in quella direzione posso anche dire a posteriori adesso non c'è più ma se capiterà glielo riferirete voi che ho molto apprezzato anche il fatto anche l'approccio che Antonio ha avuto anche nel raccontare ad esempio quello che dopo Carla specificamente non è così scontato perché invece in altre realtà in giro per l'Italia a volte invece queste complessità si polarizzano no? le diversità possono essere occasioni di polarizzazione e anche di conflitto invece il poter costruire dei percorsi insieme penso che sia invece molto più interessante ci sono dei limiti prima si citava il discorso della fiscalità è un problema che riempia ma anche a mi spiace io in bottega non posso vendere un prodotto di ingegnino clandestino è vero? è in pazza non lo puoi vendere è vero? dipende dall'azienda alcune ingegnino clandestino hanno anche la loro forma fiscale legale allora le posso vendere ok quindi chiaramente quella modalità non la posso vendere eh sì esatto però queste sono un'impresa che chiaramente ha una sua fiscalità quindi devo acquistare della merce per poterla rivendere in bottega la devo acquistare chiaramente ci deve essere un percorso gas come diceva prima forse Michela l'informalità permette ancora da questo punto di vista e comunque molti gas da questo punto di vista non hanno anche con altri fornitori spesso quando acquistano da lontano non è che gli chiedono lo scontrino magari basta una semplice ricevuta quindi dipende un pochino da con cui l'organizzazione chiaramente si è collocata nel mio caso ad esempio chiaro questo a volte per me è un peccato io come consumatore o come come dire come gottega ne promuoviamo ad esempio i gas presenti sul territorio anche quelli più informali tutt'ora la conosce anche le esperienze di Perugia Solidale qui da noi quindi l'esperienza più informale che però è un'efficacia una potenza che tra l'altro anche nel tempo di covid è stata molto molto preziosa per la comunità perugina intera quindi da quel punto di vista ecco da dove non posso come negozio dal punto di vista fiscale avere in bottega questi prodotti trovo tutte le modalità con cui posso suggerire sostenere anche quei miei soci l'adesione ecco a percorsi virtuosi che come possono esserci ecco però ecco questo racconta un po' questa difficoltà più complessiva se vogliamo come dicevo prima credo che la narrazione faccia la differenza penso che appunto poter mettere in rete poter fare in modo che il gruppo d'acquisto che è nato che nasce ampli le sue possibilità e tenga in conto che come dicevo all'inizio spostare i consumi passate verso lo spostare su tante cose e quindi ad esempio non è per perorare le cause del commercio ma ripeto caffè tè c'è i classici coloniali ma pensiamo anche al discorso dell'abbigliamento che è molto complicato no è molto complicato anche per un discorso sì o per una nostra percezione dei costi perché poi dopo magari il capo costosissimo che non vale quel prezzo poi siamo qua presenti stasera ma forse magari a buona parte delle persone che individiamo nella nostra quotidianità a volte non ci si pone nel problema e sapere che il percorso e che un prezzo trasparente che con la realtà delle caratteristiche del commercio eco ormai anche acquisita un po' anche da tanti altri si permette di capire che se quel prodotto ha quel prezzo lì è perché dietro c'è tutto un percorso e quel percorso nel caso ancora più non soltanto del cibo ma nel caso del prodotto che io utilizzo per la casa a costo mesi basta pensare all'abbigliamento sarebbe molto interessante su questo punto di vista ecco l'esperienza di Bologna insomma che prima accennavo di rivestiti di una fiera dedicata specialmente al tema anche dell'abbigliamento o l'esperienza anche di Camilla il emporio che c'è a Bologna dimostra che si possono mettere insieme tante cose cioè mettere insieme dei percorsi penso che insomma un po' questo potesse insomma mi fa piacere possa essere il senso anche del mio intervento di questa sera di capire di come tanti percorsi messi insieme possono essere di piccoli contributi a ognuno una buona prassi perché poi dopo basterebbe pensare al discorso del turismo basterebbe pensare al discorso della finanza etica cioè sono poi tanti come dire che messe insieme ci fanno come dire sperare che questo mondo sia ancora cambiabile sì anche perché effettivamente comunque siamo già cioè nel senso la grande distribuzione come dicevi tu i prodotti coloniali ormai ce l'abbiamo quindi trovare una strada che sia rispettosa per tutti sì anche aprirsi cioè sono totalmente a favore io dell'apertura tanto ormai siamo così come diceva l'Antonio dobbiamo adattarci e ci adattiamo anche pensare a un gruppo d'acquisto solidale soltanto un po' cioè l'abbiamo visto anche nelle scorse formazioni molte testimonianze nelle scorse formazioni sono state tutte abbiamo avuto questo gruppo d'acquisto molto longevo 15-20 anni dopodiché se non trova un'altra forma di espressione o di resilienza poi alla fine eh sì bisogna comunque trovare la strada per cambiare questa comunque potrebbe anche rientrare tra le prospettive no comunque Erika diceva che anche loro hanno acquistato il il caffè Tatawelo tra l'altro appunto Erika potrà anche raccontarvi se perfetto bravo che era ottimo e non so se avete visto il materiale vedi vedi sfondiamo porte aperte quindi perfetto meglio così alla cosa interessante voi forse questo potrebbe essere voi appunto sia Michele che Erika che si erano conoscendo lo sanno uno del lavoro quest'anno che ha proposto la cooperativa Tatawelo è stata quella anche di ragionare sul discorso dei prezzi perché uno dei punti chiave spesso che viene detto è il commercio eco è caro è insostenibile non posso perché io come faccio mi costa troppo a parte che la pandemia ha dimostrato tantissimo in questi aumenti dei prezzi come alcuni prezzi a volte aumentano perché sono gonfiati quelli che aumentano come è successo anche nel commercio eco aumentano perché alcuni costi purtroppo hanno compito proprio di un percorso di un prodotto molto lungo hanno incidono ok però nel caso del caffè molto interessante magari questo te lo manderò poi anche a mettere in piattaforma morena e quelli di Tatawelo hanno proprio mandato due materiali che magari forse voi avete anche visto di Chiara Erika o anche gli altri se qualcuno lo conoscono dove facevano una comparazione di tutti i caffè del commercio eco anche del commercio a marchio tipo Fairtrade quindi commercio nella grande distribuzione e i caffè invece non equi e facciamo vedere come il caffè Tatawelo ancora più si è prefinanziato quindi con questo acquisto che peraltro permette uno sconto a chi lo acquista perché lo acquistando lo prima salta tra virgolette anche il passaggio della bottega cioè il passaggio finale della rivendita il prodotto è un prodotto anche sostenibile dal punto di vista economico cioè più economico di tanti altri prodotti migliantati o anche buoni o molto di massa molto conosciuti e anche da questo punto di vista è interessante anche questo discorso perché permette anche di cambiare anche un po' con cui a volte c'è un po' il rischio che magari alcuni prodotti dal consumatore normalmente a volte anche da qualche gas azione io conosco dei gas con cui moriamo che vendono in un diverso mondo un prodotto di commercio ma non gli chiedo di mettere miele posso capire benissimo gli chiedo di mettere magari un prodotto che comunque non hanno perché c'è un po' questo timore quasi che sia c'è poi il rischio che il rischio non ci stia dentro perché costa troppo ecco la cosa che ho affettato a quello è uno di questi esempi che anche in volte si può smontare questa percezione Michela ce l'avranno alzata ma mi chiedevo fare un commento che come dire è banale cioè però lo faccio cioè come dirlo riporto perché sono poi i commenti che vengono detti verissimo il discorso del prezzo nel momento in cui un prodotto dell'altro mercato adesso l'altro libero mondo probabilmente non è dentro i supermercati per confondermi esatto allora nel momento in cui un altro mercato entra nel supermercato e io riesco a trovare il caffè lo zucchero eccetera eccetera ad un prezzo che è più basso di quello delle botteghe e non ne capisco il valore il significato certo che gli ho aperto un mercato però il messaggio che poi arriva a quello che è il consumatore critico è abbastanza il consumatore critico nel senso quello che magari ha anche la disponibilità economica e la consapevolezza per fare un certo tipo di scelte è abbastanza come posso dire conflittuale insomma ci apre tutta una serie di valutazioni come quando si dice la pasta iris anche questo dico una cosa banalissima però il tema anche tra di noi complesso eterno che pasta dobbiamo prendere la iris ce la prendono tutti quindi noi riusciamo a fare un ordine che è accessibile che porta persone eccetera che ti permette da un lato di togliere soldi e la grande distribuzione per cui tu dici il mio movimento di sottrazione delle risorse tra virgolette al nemico siamo tutti in termini di guerra però insomma grosso modo io lo posso fare sono comunque tanto contenta perché va bene è stata la iris e io comunque ho raggiunto l'obiettivo oppure faccio dicevo l'altra volta le famose 3000 euro le mie 3000 euro di acquisto complessivo e dico che bello 3000 euro in meno la grande distribuzione la grande distribuzione neanche se ne accorge poi la persona che invece comincia a entrare nelle dinamiche del processo magari la iris non la vuole non perché non sia un prodotto valido ma proprio perché ci sono tutta una serie di compromessi ma improprio cioè perché la iris in qualche modo alimenta il sistema nel momento in cui vende alla coppia ne voglio prendere un'altra di pasta diventano un accessibile quindi io come gas posso proporre alla gente di comprare un pacco di pasta cioè dovrei fare le distribuzioni ogni volta quindi in questo senso anche il discorso del dire rifletto investo è un prodotto ma nel momento in cui me lo trovo al supermercato si genera un pochino di confusione e anche di come dire qualcuno poi arretra certo beh guarda su questo ad esempio ciao su questo ad esempio il discorso è molto complesso e non lo esauriamo sicuramente in pochi minuti anche l'accesso del commercio nella grande distribuzione come dicevo prima ad esempio il discorso del singolo prodotto che trovi nel commercio come fa la coppia come fanno tanti altri questo c'è sempre stato c'è stata una cosa a dire ci sono delle complessità di visione e comunque alla fine fondamentalmente hai due cose due percorsi un po' diversi un prodotto dove c'è il prodotto che ha la materia prima certificata e invece un percorso della filiera quello delle botteghe che ha tutto un discorso di narrazione di racconto di come dire di quotidianità che è il luogo che è la bottega di commercio quando si è deciso a livello di commercio alcune organizzazioni in caso di alto mercato di entrare nella grande distribuzione uno dei paletti che si mise e che ancora adesso comunque rimane è che il prodotto chiaramente non deve avere un prezzo inferiore per le palese perché sennò diventeremmo una concorrenza non corretta e chiaramente potrebbe avere un prezzo leggermente maggiore così come dovrebbe essere da dove avvenisse questa cosa del prezzo inferiore dovrebbe essere segnalata ed è stato fatto anche quando è successo ad esempio incontrile Selunga ad esempio ha in passato successo quindi furono segnalati in questo caso di chiaramente ovviamente esattamente Selunga era successo questa cosa qua se si mi ricordo sulle uova di Pasqua e chiaramente fu segnalato perché non è che incontrile le uova di Pasqua e poi dopo tanto cioè quella era una chiara dimostrazione tra piccolette forse di quell'esercizio lì di quel posto non dico di greenwashing ma molto simile perché di fatto l'aveva comprata e poi anche pur perdendoci immagini l'aveva venduta anche a minor prezzo ma chiaramente questo non aveva nessun senso ecco chiaramente la marginalità ha anche la sua incidenza la possibilità che possa essere venduta anche di più da questo punto di vista tra l'altro questo ormai viene anche nelle botteghe voi potete trovare un caffè un caffè ma anche un caffè di libero mondo però anche un caffè di alto mercato trovarlo nella bottega di Perugia con la bottega dei prezzi leggermente diversi perché ormai le centrali di commercio ecco anche in base a diversi territori una sorta di range di prezzo in tua margine questo tu sai che poi eventualmente vendolo anche un po' di più in quella forbice che possa permetterti di essere sostenibile con trasparenza narrato e anche abbastanza con chiarezza insomma però questa è la pedia che comunque su questa cosa della forbice del prezzo è una cosa potenziale quindi da questo punto di vista anche se capita nella distribuzione per quegli prodotti della rete della filiera del commercio ecco Fabrizio non c'ha una buona rete mi sa ma penso si ha capito un po' il suo discorso ad esempio noi qui in Umbria siamo molto vicini abbiamo l'esperienza di giro l'avevamo perso Fabrizio per un attimo e qui la cosa di Iris nel dettaglio la conosco perché abbiamo prodotti anche di Iris anche noi in bottega ma ad esempio noi qui in Umbria abbiamo l'esperienza di polomoni che è molto vicina no? esatto che è un'esperienza la natura si si trova eccezionale è infatti è un'esperienza molto interessante per dire giro l'omoni ad esempio adesso ha fatto un percorso è stato monitorato e può raccontare come la sua filiera è di fatto una filiera di giro l'omoni passando al discorso del grano estremamente interessante poi chiaramente poi chiaramente giro l'omoni ha tutte le altre realtà pian piano troveranno delle modalità di distribuzione prodotto anche per poter anche far crescere crescere anche questo modello anche in diverse altre realtà e quindi un po' come dicevi tu prima chiaramente ci dobbiamo un pochino convivere o adattare la prima chiaramente però possiamo ancora fare delle scelte della differenza laddove come dicevi tu prima nel caso di Iris chiaro lo posso fare in qualche occasione io ricordo che qui anche un gruppo un gas che faceva appunto a un certo punto mi ha detto non riesco a procedere perché non riesco più a raggiungere quella cifra ad esempio e chiesto di appoggiarsi alla bottega che acquistare i prodotti Iris quindi abbiamo fatto una sorta di tramite in quel caso lì giustamente diventato magari per qualche piccola realtà fare l'acquisto collettivo però da questo punto di vista aggiungo questa informazione penso che la bottega del commercio eco del territorio potrebbe anche essere e mi auguro che lo sia ci sono delle possibilità di vercela vicino anche un pungolo anche vicendevole per un gas per anche adesso lecitarla anche a a conoscere anche dei produttori che a volte magari nella quotidianità possono sfuggire mi sape comunque ormai di commercio eco hanno al loro interno anche prodotti prodotti di realtà noi ad esempio faccio un esempio classico sviluppare molto una attenzione un po' perché ci apparteneva anche come cooperativa al mondo delle economie carcerarie ho deciso che nella nostra bottega siano presenti prodotti che raccontino appunto un percorso che da quel punto di vista sono quelli di libera esatto cioè percorsi che abbiano come dire dei contenuti che sono molto vicini al tema del commercio eco quindi ecco da questo motivo interessante che il gas possa raccogliere anche dei suggerimenti ma anche proporre penso che sia ancora un'idea secondo me da portarci via da questo grazie a tutti grazie a tutti